e siamo live ragazzi facciamo qualche singolino tanto che aspettiamo che si popola la live bella Luca faccio questa singolino e poi ci sono volevo aspettare che si popolasse un po' la live prima di iniziare faccio questa partitela qua e poi si vola bene Luca ci sei poi? mi voglio di aspettare un game dove ci arrivo? perfetto perfetto Luca alla grande alla grande ragazzi mi raccomando andate a vedere un nuovo reel su facebook su instagram no no come lagga oh porco schifo come lagga andate a commentare andate a spammare andate a mettere mi piace commentare qualsiasi cosa attenzione non mi carica sento esplosioni sento che si sparano all'aereo ma non so dove sono sarebbe bello capire dove bella Mauro grazie per il like Mauro come stai Mauro? ragazzi mi raccomando video su instagram e facebook e poi scrivete il vostro nome che vi aggiungo di prossimo game iniziamo a giocare un po' insieme ragazzi mi raccomando mi raccomando ma mi sa che qua adesso c'ho già le armi questa è la modalità è la mattia buonasera ci sei per giocare ci sei on bella mattia come stai bella carlu avete visto ragazzi il nuovo reels che bomba ed è solo un assaggio perché il prossimo sarà ancora più bello pensavo che ci avessimo già le armi non è una brossa lo tagliamo con i pazzi questo lo prendiamo 3,2,1 oh mica non l'ha per più il paracaduto questo lo schiaffeggiatore di caldera bravo ragazzi Eric ma c'è qualcuno che corre? bene bene benissimo bella rogicas per il like grazie Eric per il like ragazzi mi raccomando aggiungetemi e giochiamo su o mettete il vostro nick e giochiamo dopo di questa c'è una bella fortune skip ma vuoi dirmi che son crashato ma è crashata la mia la mia raga mi son crashato proprio io di connessione o server? scrivetemi qualcosa vi prego fa che non sia la spero che non sia crashato tutto ragazzi ah ci sono su facebook e allora è il gioco ma è il gioco meno male volevo farmi una singolina prima di iniziare ah ragazzi vi scrivo il nick per raggiungermi ah ok ok mi sono spaventato ragazzi ho detto no mi è crashato tutto no allora vi lascio che non l'ho messa sulla descrizione del il mio ho fissato in alto il commento mi raccomando ragazzi aggiungetemi ci siete aggiungetemi intanto che mi faccio sta partitella sotto le fucce del reel dovresti metterci pure i commenti miei in quel momento mentre li faccio porco dio questo video lì ho voluto fare solo un po' le kill perché però sarebbe stato bello magari aggiungere anche qualche mio commento dopo il momento che ho ucciso qualcuno c'è qualche qualche kill dove minchia sono impazzito però ne faccio una po' più incentrata sulle kill così mi hanno consigliato l'avevo fatto così rimolio vedevo che stava un po' mezzo tutti intasati i server generali di warzone cioè di code un cerchio accumula potere senza massa controllate l'attrezzatura c'è tempo prima della missione non ho fatta una l'altro giorno nel prelobby i kill tipo così facendo così in volo mi ha distrutto la testa questo qua guarda che mirino che ha che figata che figata ma non ci ho pensato ma in volo col ppsh cosa fai a distruggire la gente li triti porco diaz in volo il gorenco solo che a me il gorenco mi sono divertito a giocare all'inizio però bene io ho bisogno di fare quelle kill della madonna da lontano quelle in volo divento matto mi piace non troppo guarda la testa si è nascita un cazzo che meraveta più che altro con tutti quei puntini laterali così porco diaz come fai a vedere con tutti quei quei puntini ci ributtiamo lì ci ributtiamo lì ragazzi comunque vi piace la nuova come ho messo la webcam bene con il mouse così almeno si vede proprio che se vado da destra col mouse si capisce che faccio il movimento a destra prima invece porco diaz si capiva un cazzo eravate sotto sopra di omor un nemico ti sta abbracando mi si io mi prendo lontano di voler ho avuto i soldi in giro che cazzo vedi questi soldi mi hai fatto apposta oh si vuole pushare ok finita la taglia mi sa ragazzo mio mi potete scrivere clip in chat che questa la salviamo per il prossimo video per favore scrivete no no ti prego no ti prego ma cos'è sta roba ma è sempre lui ma scendi già di nuovo con le armi ma scendi di nuovo con le armi con le stesse dai no ma io non lo sapevo sta cosa che schifo e chiamato chiamato no 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 minchio ma che cura ma cos'è sta cosa ma non riesco manca a sopravvivere mi arriva gente addosso ma che cazzo di modalità di merda eh non ci devo uno ma arrivava uno non ci devo uno ma arrivava un altro bene ma porco schifoso solo che prima non ho scritto nessuno sito e clip non ricorderò non ricorderò raga se c'è qualcuno non fate i timidi non fate i timidi Luca non c'è è finito Luca bella moon ci sei vuoi entrare maledetto entra va che qua chiedono sempre i follower dei e poi non ci sono aia 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 dai entra entra aia a smettila va entra su decidir cavolate moon moon spettacolare dragon ball il mucana esatto farmi impazzire tipo adesso mi direi sono collegato al server discord quando in realtà non lo è solo collegato sul server lo vedo online e non è collegato al server porco schifo eccolo lì eccolo 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 e niente e niente e quanto ci sta mettendo il moon 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 il moon delle 10 sfere cazzo eccolo e ti ho scritto che ero sul divano dammi il tempo dai su madonna non l'hai mica scritto che eri sul divano stupidina si si e beh su dal telefono ti scrivo mica dal pc a me arriva la notifica sul cellulare il buon tosca mi sta invitando però adesso non so se stai in live voglio lasciare lo spazio diciamo ai follower buon toscano comunque chi mi segue chi gioca con me maledetto tosca via salutarci qualche volta in live ma che modalità del cazzo era quella lì muori rientri subito porco diaz tutti che mi venivano addosso non uccidevo uno mi arrivava l'altro non uccidevo quello mi arrivava un altro ancora ma mai che cazzo camine Grazie a tutti V'hai messo il Laika Rills? Mammon dove cazzo sei? Ma questo mi sta trollando ragazzi Vabbè ve ne faccio una singola allora Nel mentre Maledetto va Faccio una Hai detto Moon va Tanto sarà invisibile come al solito E me la starto una Il Moon lo kickchiamo adesso Lo kickchiamo Lo kickchiamo Buon Moon eh Sta provando a farmi nervosire E ci sta riuscendo Ci sta riuscendo cazzo ragazzi Ci sta riuscendo Parca diaz Ci sta riuscendo Sai che mi stavi facendo nervosire no? Che non mi rispondevi Eh eh è saltato tutto Ti ho scritto sul telefono Eh leo Infatti stavo già startando da solo Maledizione Poi sei offline come al solito Perché poi dici sempre gne gne Sei sempre offline No è il gioco che è buggato Ma dai sei offline Non sono offline Io ti vedo Sei offline Guarda che se te mi vedi Sei comunque offline capisci? Ma mi chiamai Ma ti mando la foto porco due Sei offline Ogni volta che me lo dici Sei sempre offline Non sono mai offline Sei offline Guarda che sono online Offline Provai a invitarmi dall'invito Che ti ho mandato io? Non posso invitarti dall'invito Cosa cazzo vuol dire? Maledizione No da sotto Dalla chat Se clicchi sul mio nome Con il destro Ti ho nel Un altro ragazzo Che mi ha scritto Pronto Ti ho invitato eh Adesso mi è arrivato Ma stai scherzando? Comunque veramente Con la modalità là Orrendameli Ogni due secondi Avevo uno addosso Ma che cazzo Di modalità è? Cos'era? Ma era singolo Non c'è singolo normale Ma c'era singolo In quel modo lì Ah Oggi voglio vedere Se il buon Vincenzo Si collega Tutte le sere Viene per scrivere Non è che fa il follower day? Ho scritto sul gruppo Privato Perché ovviamente Quelli che Sono del gruppo Telegram Ragazzi Ti ricordiamo Che sanno prima Quando ci sono in follower day Quindi entrate anche voi Nel gruppo Telegram Per sapere tutto Faccio un po' di ASMR L'altra volta che faceva Sti bug lì Avevo ricreato il party Ed era partito Comunque Ci sono degli errori Un po' strani Nel server Da quando Ci sono C'è la beta Di Modern Warfare Strano Ma adesso Non inizieranno A non coraggiare più Tutti i bug Che Fanno uscire Il gioco nuovo E tutti i cazzi Come avevamo fatto già Quando doveva uscire La mappa nuova qui La ricreo Va perché Io vedo che Trova la partita E poi subito dopo Ma come hai fatto vedere La stessa cosa Ma come faccio a kickarti Allora Parti Esco io Esco io Esco io Vabbè Buttato fuori così No Ti rinvito Se non Se non riusciamo a entrare Qui ti amo E vaffanculo Mi sono rotto le patate E se ti attenzione Ma stasera Non c'è proprio nessuno E a ranger giotto Non c'è Forse rogi Arriva più tardi Quindi non è che ho chiesto Sinceramente Ho detto Boh Dovevo far so follower day Ho detto Facciamo oggi E via Tanto bene o male Poi so che Se ci siete Vi collegate In caso Mi riempite le lobby Ah si No però mi dispiace Perché molte volte C'è Ci sono i ragazzi Che chiedono di giocare Minchia le volte Che faccio follower day Veramente Cioè la sfiga Vuole che Non si collega A nessuno Di quelli Che di solito Vuole giocare Che poi A tanti Gli piace Anche solo Vedere E ci sta Qualcuno Vuole anche giocare Però c'è proprio La sfiga Che vuole Che quando Lo faccio Magari Non ci sono Hanno altri impegni Quello Vabbè È normale Siamo tutti Dei nerd Come moon Eh certo Siamo tutti Dei nerd Come moon Shiner Sì 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 Col cazzo Sto gioco Niente Nesco Rientro Che Chiudo anche io Bella Riccardo Grazie per il like Hai visto I reels O no Buon moon Io sì Che l'ho visto Ah Ah no Ho visto Quello che mi avevi mandato No Devi vedere i reels Devi mettere anche il like Devi commentare Sia su Instagram Che su Facebook Like e commentare E via Pure Eh sì Non te la scampi così Buonasera Riccardo Come stai Ho fatto un game Il primo game è crashato Faccio il secondo game C'è una modalità Campione di caldera Singolo Boh Ne uccido uno in volo Mi arriva un altro in volo Mi distrugge Poi Riscendo già subito con le armi Vado Puscio uno Lo uccido Mi puscio un altro Lo uccido Mi puscio un altro Mi chiara senza vita Non c'è Datemi un respiro Qualcola Dio mio Quindi Poi adesso Stiamo provando A startare le partite Ma Non ce le starta Questo gioco è fantastico Io lo sapevo Che durante la beta Il server davano un po' Lo fanno un po' A posto Probabilmente Sfruttano i server Che hanno Per l'altro gioco Si che in realtà Dovrebbero crearne nuovi Perché Poi dicono che Warzone 1 Comunque lo otterranno ancora Ci sarà comunque Questo è un furio Perché non eliminano Warzone 1 Perché pensano che Se per caso il 2 Non piace O comunque c'è qualcuno Come quando mettevi Caldera Verdansk Rebirth Che cazzo Ne so Rompe il cazzo Almeno hanno Comunque Il backup Dell'altro gioco Che Che dicono Al massimo Se non piace Abbiamo l'altro gioco E Continuiamo A usare Quello Modifichiamo Quello in qualche modo Ti ho evitato Si si Mi è arrivato La beta La beta di Warzone 2 Sembra carina Ma tanto diversa Hai già visto qualche gameplay Ah non l'ho visto Tanti gameplay Sinceramente Mi sono un minimo Informato Sembrerebbe un po' Un po' diversa Un po' strana Perché poi Dicono che c'è questo Benedetto Zaino Che puoi mettere 15 Oggetti Diciamo Tipo 5 slot Da forse 3 Ognuno E quindi Per dire Alcuni hanno detto Che per assurdo Puoi tenere Tipo anche 15 scudi Oppure Se uno è furbo Si può Si compra la maschera Venga Trova la maschera d'oro Si mette 15 siringhe E sta fuori Continua a siringarsi Io spero che Alcuni oggetti Siano Diciamo Cioè Al massimo Puoi averne un tot Perché se no Sarebbe ridicola La cosa Sì tipo Le siringhe Non possono fare Canettini 15 Eh esatto Oppure O fai Una cosa Che quando sei fuori Dalla safe Ne puoi usare Continuamente Il massimo Un tot Oppure fuori dalla safe Non puoi usarle Che cazzo Ne so Però E uno Secondo me Alcuni Oggetti Non saranno Infiniti Perché Non sarebbe Veramente valida Sto una cosa Del genere Noi ci Ribecchiamo La gente Che si tira Infinite siringa Non spari Non spari più E non mici più Bene Ti metti con maschera Se c'è di nuovo Qualcosa Che lanci Che ti crea L'ossigeno Guarda Non la trovo Porco Dio Ho provato A saltare Una terzetta Proverter I cannot think for you Un terzetti l'ho trovato, è pazzesco Eh vabbè, giocheremo in un terzetti C'è più gente da killare Eh vabbè, uno in più dai, non fa la differenza Con uno forte come te che vale due Attenzione, questa è una bella Leccatina di culo Attenzione, questa si chiama Cioè, ti è rimasta un po' di merda sulla lingua? No, 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 no Ah, dici che bella profumata? Eh, mi sono fatto la traccia prima Mi sono fatto la traccia Attenzione, terzetti ragazzi Terzetti Eh, l'ultima volta, c'eri te quando No, mi sa che hai crashato Ah, sì, no, niente Quando eravamo Un buon Roger King Crashato Non era, era quella della sera che abbiamo fatto una maria di win, non sbaglio? No, forse no No, no, perché Roger King le aveva vinte tutte sul campo Le win lì Le aveva fatte tutte sul campo Era crashato in una partita Abbiamo vinto io e te, Ranger Quando era? L'altro ieri Mercoledì sera Allora sì La famosa sera Che è su 7-10-25 Che è su 7-10-25 Il follower day ragazzi È importante, eh Dovete entrare ragazzi Se avete voglia entrate, eh Basta scrivere Poi a una certa ora Poi mi Sul tardi Facciamo qualche partita Seria Noi Inizia la vera battaglia Io potrei mettere un'altra Nella webcam sotto delle mani Potrei mettere di nuovo un'altra patrina Però di nuovo corribica Mica, no peccato Indica un punto di lancio Per il tempo Qua dove c'è Due Mio Allora ecco Allora ecco Allora per una specie di cornice Lancio di denaro in arrivo Giorno di paga Giorno di paga Giorno di paga Vieni a giocare con Si è riuscita a raddrizzare la cam sulla tastiera L'hai visto porco diaz L'ho girata L'ho fatto a specchio E' figa perché vedi Sono tornato a essere desktop Non sono più mancino ragazzi Ma ogni tanto ragazzi Proprio facile col desktop ragazzi Il cambio di sinistro Perché stanno a vallare Perché per giocare con Moon Devo giocare col desktop ragazzi Già se giocassi con Roger King Con Roger King posso anche essere nerfato E' un po' di sinistro Eh certo Comun devo Devo ottengare Ma non c'è Inizio ragazzi Non c'è che real Ti hai trovato le armi Nooo No no Craccato Vola Ho detto Il primo colpo Craccato Dai 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 No cazzo Dai la cazzo Di gioia Visto che il loot sarà un po' più macchinoso Il nuovo Il nuovo code Poi sarà stile A Perché secondo me Devi prendere le armi di uno per terra Cioè devi Devi Luttare la borsa Di uno Mica Mica Grazie per il like Come stai Massima attenzione Un team nemico ti sta dando la caccia Ma si permette Mira Ma che lo dà su all'anno con gli altri Quanti due Oddio A vedere C'ho già le armi ma Siamo in posizione di svantaggio Ci distruggono Oh sono già lì Sono già lì Sì uno qui Scorre uno In movimento Ma cazzo Ma questo è un altro team Ma è un altro team Ma questi Ma chi Ah ma è terzi Ti vaffanculo Porco Dio Dai svegliasi Dio buono Minchierò tranquillo Risolvi con le maniere forti O cattura l'obiettivo Cosa Adesso io mi incazzo Ma come cazzo è possibile Ah si è messo incazzo di cosa Era full beat Ah la siringa Ah Ho già perso la testa Ho già perso la testa Dio fuck No bestemmiare no Sapevo Sapevo che dovevamo salire Da destra Ho detto dai Però Dai una volta Niente Ormai Dio buono Se sei sul lago Ti cade lì Sei già in altezza Una volta Se sei sul lago Ti si cadeva Laggiù Sotto Ma Ci provo Ma se ti resta Faccio un troppo Se mi va bene Oddio Ragazzi Che palle ho L'hanno preso L'hanno preso Uno Però ovviamente Non è sempre Forza Sfigato Minchia Se tu vuoi prendere il pallone Proverai ad andare Ma Si sei del suo Ci metterai uno Mi spiace 500 metri Sono lungo Non so Armi Perché il rato ce l'hai già Ok In un shop vicino Questa Stazione di attizia Identificata Stazione di attizia Sono anche le armi Non so Vado Vado alla stazione Che magari Ma te l'hai già aperta Una Con due No no L'ho accetta per te Ah minchia Sei sicuro Sì Ti guarda Perché se andavamo là Ci facciamo 2000 gratis Magari potevamo fare Il lodi lo stesso Corazza Qui Corazza Qui Tempo scaduto Addio contratto Prova ad andare sotto nel bunker Ho trovato la testa Ma mi sa che qua No qua non c'è niente Non conto un cazzo Arriva il gas Marco la nuova zona sicura Quanto ci manca 1.3 Qua sopra c'è sempre Un paio di casse C'è sempre Corazza da prendere Tu sei posto Questa è buona Non so Marco un fucile d'assalto Mica ma ci credi Marco un fucile d'assalto Manca a 100 Assurdo Qual è lupato Tu direi che non ha lasciato neanche 100 qua Zero di niente Siamo nella zona sicura Neanche per sbaglio Se cazzo Intende Fando i rumori Ti sembra che ci sia qualcuno Allora Lucas Sì Adesso Graffiamo Qua ti invito Pazzesco Sì Sì Così farà la pesa per il culo Provo a scendere Crivedi Non ci vuol capire Stai qua Se noi andiamo a prenderlo Di là Stai Andi Proviamo Tanto per cercare soldi Ce l'abbiamo lì Abbiamo anche un UAV Lo compriamo La dici Proviamo Visto del denaro Eh tanto non abbiamo Tanto non abbiamo Tanto non si trovano Porco di UAB alleato in volo Dategli la caccia Capisco Sì 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 Non lo vedo più Non è che era uno che camperava Io non vedo nessuno Niente Terzetti Non c'è nessuno intorno Ma che cazzo dici Dai Siamo costati Possiamo anche pensare Che non ci sia nessuno Oh ce l'ho davanti a me Ce l'ho davanti a me Cazzo Strecciato Va giù Vabbè È morto È uno però Si è un amico Ma l'ha dilagnato Porca troia Ci sembra che i miei colpi Non ne sia entrato uno Ce l'ho lì Non riuscivo A capire Come si è un guardo Non avevo visto Di sparato Corazza da prendere Questo era quello Che abbiamo visto Che probabilmente Era costato Eh sì Secondo me sì Da sto punto sì Io però qua Un po' molla Prova a fare No no A parte che tra 13 secondi Spano le due super toglie Alla nuova zona sicura Gas in arrivo C'è un solo Un minicino Mi va di distruggere qualcosa? Ho marcato un veicolo nemico là vicino Fatelo fuori C'è una nade? Si ho una sempre Oh 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 Ma questo dov'era? Ma c***o è vero Si ma è nientato io no Adesso stai giocando contro singoli Adesso stai giocando contro singoli Ma guarda te questo Io non ci posso credere Granata lanciata Non ci credo Riuscii a Tirarne un altro Granata lanciata Ho il solo nemico distrutto Non è stato difficile Passi d'arrivo Che ce ne facciamo Io? Eh Forse no andiamo in giro E trolliamo un po' Voglio andare a trovare via E provarci Di nuovo Ah si se non arriva un altro Nascosto da qualche parte Però no Meno male che eri vicino Perché sennò Ti copro io Sempre che ti copro io Meno male che ci puoi Non come gli altri Non faccio nomi Moon Moon Volevi dire Moon Perchetto Questa arrivano Perchetto c'è questo qua Davanti a me Che è sopra la cordinetta E gli altri due Sono sotto con l'elicottero Davanti a me Davanti a me Vedete Stratto giù Lancia un astordente Alicottero 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 Benin che follower Nel bombone Dice Il bombone è il follower numero uno Questa arriva Luca Se rompe il colpito di cieco Dimelo A 34 Emanuele grazie per il like Buonasera Emanuele come stai Niente qua non c'è nessuno Però effettivamente Adesso guardiamo Come si chiudono Grandi E dai Gianluca Grandi cose Non ti so Followage 658 giorni Sempre di più Ogni giorno di più Andrea grazie per il like Buonasera Andrea Oh Stanno buttando giù eh Quindi vengono giù Ma uno si è buttato giù Non so se sono due Ma c'è uno della partita Guarda quello là No ovviamente non ho l'angolo No è one shot Uno sotto Un polpo gli devi dare No Andrà tutto bene Alla nuova zona sicura Gas in arrivo Ma come mai Stai un ambiente Questo non so Questo è confermato No Quello di là si è autorrestato Sono due quelli di là C'è uno sotto E quello là Di là sono due Quindi questo qua sotto Sì era del loro team Comunque Ma sono è scesa La safe non è di qua Oh guarda di questo qua Che ci faccio qualche giro strano Un po' più indietro io Prendo anche io Che non ho voglia di prendere Alla stanzi Niente Andiamo in safe Andiamo su queste Hanno scaricato appena un palloncino qua dietro Come stanno Come mai Ho più vicino Hanno preso il nostro camion Questo qua sotto Sì Ma anche un palloncino Ci puscia È uno da solo A prendere i compagni Eh sì Potrebbe essere il tizio di prima Come mai stanco Emanuele Pallone pallone Sono sopra di noi qua Nemico marcato È la luce Però Mi sembra È la luce Nemico marcato Non mi senti Non mi senti Devo tirare la cassa di muni A meno che non è assalto tu Assalto sì Non è 210 Ma sei a zero Però te lo lascio qua Eh non è 50 Nessimo un po' Liar sta scendendo qua Sparano da sotto Qua Eh niente Non riesco a confermarlo Il tizio Ma va bene Se mi sta sparando Anche un altro No ma Mi sparano da laggiù Mi sparano addosso Non è che poi qua Siamo messi in merda Non riusciamo a fattarli Siamo a bordo safe Ah sono qua Ho un contatto Sempre loro Merdosio Eh io gli andrei quasi in bocca Perché in realtà Da qua non vedo se non fanno Siamo a fattarli Però non c'è qui sotto Sì è stata uno una terra sto continuando a terra non è uno qui sotto non riesco a fermarlo mi piaceva proprio qui sotto uno si l'ho visto noi ne abbiamo anche uno a fronte tipo qua ho un altro team da dietro da dove siamo arrivati noi ho finito le placche bombardamento bombardamento di precisione lo patrick lo acquit lo acquit lo acquit Grazie a tutti Grazie a tutti No dai No dai Ma questo che timing In quel momento lì Si è messa a correre verso lo shop In quel momento lì cazzo Ma state fightando il tuo compagno sta Vabbè io guardo Minchia peccato che avevo finito le blast Che stai facendo roll e roll Per lanciare un dado Che cazzo stai dicendo Che cazzo stai facendo Riga qualcuno vuole entrare? Qualcuno vuole entrare? Eccolo Luca Buonasera Buonasera Luca Come sta Luca? Penone Sta bene 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 Si dice Eh che qua Bellina mi ha fatto stai terzetti Mi ricordavo mica che eravamo contro terzetti Buonasera Delire Si era buonasera E Roger Ken ci sei O Arrivi più tardi O non ci sei Vabbè io allora intanto Starto Perzetti Allora io vorrei fare qualche caldera Poi magari vediamo un po' Andiamo su fortune skip Che speriamo un po' di più Vado in bagno Capisciare Allora io vorrei Usate questo tempo per allenarmi Poi si farà sul serio Vado in bagno Basta giocare Basta giocare Prepararsi al lancio sulla zona di guerra Opa Questa come la vedi Luca La vinciamo? Ci proviamo Ci proviamo? No Non ci proviamo neanche La vinciamo e basta Senza provarci Siamo troppo forti Siete sempre due contro tre Ma smettila Il problema è un po' la safe Che io questa safe qua La odio a morte Poi andiamo qua I shop ne abbiamo due sotto Ma sono proprio bellissimi È mezzo bagato È bassissimo È velocissimo Se va così Se va così Si schianta qui Speriamo di passare sopra la porta Speriamo di passare sopra la porta Non lo aprirà Lo aprirà il paracaduto E poi E se sfacchi Roger Che Ragazzi vi ricordo Di nuovo di guardare Il nuovo rail Il nuovo rail Tutti intorno a noi Se abbiamo una linea continua Di gente che Ce ne è tutti alla tua destra È le mie spalle La priorità È incidere tutti i nemici All'attacco C'è un soldato nemico Un soldato nemico è malato? Ah sono quelli so Alcuni però Ma perché non vanno i colpi? Sembrava casi che non entrassero Anche a me non entrano Questi colpi Io non so se sono io No ma secondo me È questa arma qua Che non ha Una gittata lunga Diciamo Perché è impossibile Cioè i colpi erano E' vero che questo coso Non li uccidi solo Alla Mattia Grazie per il like Non l'abbiamo trovato molto Come stai Mattia? Cazzo Un Kaiser E c'è il pallone Aspettare un secondo il Lodi Tanto vediamo dove va Vediamo dove si butta Non sappiamo già dove ce lo dà no? Sì oltre qua Oltre qua Oltre qua vicino a noi E invece E cala lì Due Madonna brutto là sopra Brutto brutto sì Tira il pallone Andiamoci col pallone Che dici? Vai 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 Sì Fatti del sistema Oh my god Una l'ha già presa Oh l'abbiamo già presa Really? Really? Really sì Porca diaz T'ho spaccato il culo Ok ci ha tirato Non ho capito da dove bro Voi siete buttati giù? Forse sotto? Sì Sì sotto di noi Vabbè è sembrato sotto ma non Ecco ma Attacco il tiratore Ua vena Vengo a Sì Vabbè 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 Vi regalo Ua v Ua v Alleato in volo Dategli la caccia Nemico individuato E ogni tanto Vedo un luccichio laggiù Ma che cazzo è? Ma è il riflesso Del mio vetro Un pallone qua Potenziamento da cazzo Disponibile Nemico individuato Ma noi là Non possiamo affettare Cri Però sto solo C'abbiamo gente qua da me Se volete Che sta rientrando Sì Arrivo Il Batman Questa sta arrivando qua Non so Se volete mica colpi Sniper C'è gente Secondo me Questa qua va su C'è gente sopra Mi sembra Sopra il tetto Sì Vabbè giù Araccia giù Attendate Per scrivere Sento passi Sul tetto forse Vi hanno dato Ma Mi sa che è sul tetto Delle Oddi Oh da me Da me Da me Oh no È sul Il tetto estremo Alto C'è una mano Uno fatto Mi sparano Non è niente Devo buttarmi da te Siamo degli scudi C'è la mia Qua ci sono degli scudi Però non so se Proviamo a buttare Guarda qui Scusate Madonna Sono male Sono uno scudi Sia se non le metto Non ne ho Non ne ho io Guarda qui Grazie Prendo un uavviso Può prendere anche degli scudi Se si compro un giro Perché ne ho due Ne abbiamo tutti due Ricognizione urgente Madonna Ce l'abbiamo sopra È una flyer flyer Gli altri però Mi sembrano sopra Gli altri Gli altri mi sembrano sopra Sì Gli altri mi sembrano sopra Raduniamoci da Marco un bersaglio Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Un tuo alleato è finito dal gula Che dovrà bagnarsi Per tornare in capo Lì dietro al verde Se riesci un po' a prendere altezza C'è dietro l'antenda qua? E non li vedo più Caffati Ah qua Caccato Non moriamo Nemico individuato Ma è strano che è solo uno Perché erano in due No erano due Due Lì dietro Vediamoci qui Dimenticate quello che ho detto Ma c'è il compagno Che sta facendo qualche giro strano Continua a star lì dietro Questo Non lo vedo Qui mi sta mirando Lì dietro ancora Ecco fatto Eccolo lì Riesci a sparare dei colpi Se non muoio? Non li hai sparato in colpi Non riesco qui Mi stavo sparando un po' a me Eh no Se stavo sparando a me Stavo sparando solo a me No dai Così grossare così No No gli sparavo io Adesso sei nel gulag So Tornerai sul campo di battaglia Se perdi Non potrai farlo Risolvi con le maniere forti O cattura l'obiettivo Potrai tornare Con i vanili Ben fatto No no Mi ha sparato bassissimo Cazzo Dovevo poter venire qua E' un'altra il tuo alleato ha vinto lo rivedrai presto posso scendere lì? non so ne ho fatto un UAV non so dove siano se non prendo qualcosa qua sopra ti butti sopra mi pare che è troppo basso sarà un po' basso però contratto di fornimento andiamo non c'è sopra qui non ci arrivo credo no 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 non andare adesso prendo il pallone ci può andare qua è tutto lootato ho marcato un fucile di precisione questo è le armi che te? io l'unica cosa che non ho colpi no nella casa di qualcuno che è morto un ppsh e un automata eh anch'io l'unica cosa che non ho colpi dimitri io non ho ah qua c'è il vediamoci qui qua c'è anche qua un ho marcato un fucile una mitraglietta da prendere perca munizioni che è qua si si te lo prenderà andiamo a provare da lassù andiamo a prendere l'altro pallone subito dove mi sa che è arraissato qua davanti no fake 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 non può essere si venditore marcato lucas ti chiami giusto? si si ho fatto tipo un drop sotto si ho fatto starci anche meno il lobby eh guardo quanto no si mi costa 7,5 si mi lasciate tutti i soldi lo compro io lasciatemi i soldi ah perchè io ho già usato il coda forse eh si comunque qui sotto hanno fatto il load di qualcosa stanno attenti arriva il gas marco la nuova zona sicura faccio di equipaggiamento per voi ma stare attenti dietro raga secondo me ci stanno per mangiare qui sotto eccoli infatti qua dietro io ci stavo già guardando ho guardato sotto ah no questi erano sotto ah un altro team da sopra mentre fightavamo questi la cosa è che questi qua a fianco dovevamo cioè io stavo guardando in base a sinistra cioè a destra il problema è che io di questi non ho neanche sentito arrivare c'è proprio eh lo so ma se io infatti avevo collato avevo collato avevo collato quando ho fatto il load ma di quelli sopra? quelli sopra? no quelli sotto sotto ho collato che sotto avevano fatto un load di nel momento che sentono che anche noi restiamo e poi facciamo un load di io pusherei nel senso io solo che ho guardato in basso di là infatti poi ho detto di qua non stanno arrivando dobbiamo guardarci dietro però lì dovevamo guardarci c'era qualcun altro che doveva guardare dietro di là che palle vabbè abbiamo preso il salsicciotto maledizione bene 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 vediamo un po poi al massimo un po su robert è lì è startata subito all'istante così andiamo un po cambiamo un po arriva andiamo un po sulla sinistra aia attenzione ho letto un mi piace di vincenzo bella vincenzo anzi per il live come stai vincenzo madonna che basso di nuovo da aereo ma perché porco tu non è che ci sono problemi ai server stranamente così basso sicuro sicuro bella alex buonasera buonasera come stai alex io l'unico problema serio questa sera che non entrano i colpi ma magari sono i server che stanno è come se li aggassino ti sparo e dopo un po iniziano ad entrare i colpi la condivisione alex a sprint like come stai come stai mi piace il nuovo video qualche feedback prima è un po abbastanza tranquillo il prossimo secondo me ho delle kill che porco dio sono bellissime se vediamo un po se se il buon brambo riuscirà sfruttarle al meglio il tuo alleato è finito nel gulag dovrà battersi per tornare in campo non è morto la sua il tuo alleato ha vinto lo rivedrai presto non so gli altri se li pingo io ce n'è uno qua nemico marcato sta arrivando c'è un nemico qua eh nemico individuato ora il tuo alleato è nel gulag se sopravvive tornerà in battaglia io l'ho intatto arrivo eh aiutami ho caricato è caricato mi sta bruciando mi sta bruciando eh prego ho fatto quello che ho potuto con l'arma che avevo tutto bene tutto bene tu ti l'hai fatto bene ci sta perfettamente eh guarda la musica ti dico non riusciamo a trovare una canzone giusta per sta cosa poi ho provato sta canzone lì ho detto mica ma questa è bella aggressiva potrebbe starci ha provato a farla non era convintissimo però secondo me ne aveva fatto un'altra che a musica diciamo non era perfetta questa qua secondo me invece l'altra mi aveva fatto una una parte che era canzone copia di right ma era per provare però era un po' molla la musica invece così secondo me è bella aggressiva bella Gaetano grazie per il like Gaetano come stai? ragazzi vi ricordo che è follower day dovete venire a giocare adesso ci spostiamo un po' su porto un skip mi raccomando se dovete giocare scrivetelo che forse i mugay vi invitiamo raggiù c'è gente lì? ti ha fingato? si sente Ruka raduniamoci là io non vedo nessuno non ho capito se intende che vuole andare là o se c'è qualcuno però andrebbe là mi senti? si si ora si c'è gente lì? no c'è si era passato uno qua vicino il casattino raduniamoci là come non detto come non detto come non detto uavvene mi coattivo dovrò anche essere loro saranno proprio che qua c'è tutto da lutare si infatti anche qua è tutto da lutare oh c'è uno qua a fianco qua qua metà marcata lancio una stordente stordito un altro qua cambio condizione attaccato terra è bello capire l'ultimo dove è? avanzo eh era dietro di me dietro bellin Luca guarda che forte da domani torno per attivo tre settimane di ristrutturazione casa bellin grande cazzo tre settimane ma tutto a casa o solo degli ambienti di casa diciamo totalmente cioè proprio distruggere proprio tutto l'hai fatta proprio tutto a capo rompendo muri piastrelle vedi sopra non può salire andiamo andiamo ci saliamo saliamo forse lo ho provato andiamo un po' nada nada queste lobby non c'è una via di mezzo trovi gente che ti pusha in 5-6 team o trovi gente per tempo W non so però non tutti ho provato a stacarsi di beta non so ma non è ancora aperta oh i sacerdì che ci giocavano ma poi 22-7 ma no stasettimana qua sto weekend per play c'è ah sì eh sì ho soldi per i WV datemi i soldi vabbè rilascio io lo shop vabbè oh il cancel per bella vincenzo come stai però ho le 17-18 per play e poi 22 e quello lì oh oh vincenzo il volo è molo cerca di coprire no 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 ho questo sotto mi stanno andando da sotto eh ci sono più punti ne ho uno alla mia destra qua Luca ho qui a destra siamo tutti nella zona sicura che era sotto dovresti avere quello lì sulla tua destra che ti ha one shot vieni bene e va dai da posto da posto si è buttato questa arancione si si è buttato giallo si è buttato lontanissimo qua poverino è scappato da noi si è trovato un team da tre si è salvato di nuovo con sta cavolo di serpentino e si hanno provato a pusherci col pallone oh tutto a posto niente in ordine taglia non c'è un cazzo da fare vado a prendere questo vedo un contratto di cognizione bandierina non so non ci tagliano c'è un kaiser ah no si che tra due minuti qua adesso spawnano ecco vado un po' a luttare mentre stavamo fight non questo nel titolo dei soldi c'erano ancora oh vado un po' a luttare ci sono non ci sono vado un po' a luttare guardate guardate arrivo arrivo denaro affermativo cuoco vuoi respirare il seminato il cacciatore arrabbio Arrappiamo il bottino! Camion dietro! C'è anche gente sopra, vabbè la Morino grazie per il like! C'è anche uno qui sopra, si fa i Terano, penso adesso! Un altro flyer! Oh! Ci sono scesi eh! Cazzarolo! Muscelo davanti, cazzo! L'amico ha ucciso! Ne manca ancora uno, però! Si è buttato, si è buttato! Si è buttato! Non lo vedo, cazzo! Raduniamoci là! Casse in avvicinamento! Nuova zona sicura! Ok! Buono! Eh ragazzi! Alessandro Ugas! Per il like ragazzi! Ricordatevi i follower dei ragazzi! Però notatevi se volete giocare! Questi non... Non avevano soldi questi maledetti! Eh qualcosa c'era! Gli ho luttati io ma non... Poi che niente! E' questo! Adesso grazie per la condivisione! Super! Ragazzi l'avete visto? Il nuovo... Il nuovo Reals! Ve gusta! Ve gusta! O no? Commentate, commentate! Non mettete like! Condividete questa cazzo di Reals! Bisogna arrivare ovunque! Stanno sniperando qua davanti a me! Il gas vi è quasi a tosso! Abbiamo fatto anche uno shop! Venditore marcato! Dobbiamo arrivare alla zona sicura! Subito! Sembravano vicini cioè le cecchinote! Si! Sembravano vicissime a me cazzo! Sono super vicini a me! Vediamo che dobbiamo scendere! Oh! Di nuovo! Ah questo qua mi sembra! Vediamoci qui! Sembra di averlo sentito lì dal verde! Sì! Affermativo! E' andato! E' andato! E' andato con la macchina! Sì! Marco un bersaglio! Ah Riccardo la sua condivisione! Grazie mille! C'è una maschera anti gas! Dove sei adesso Riccardo? Nel mondo! Dove sei andato Luca? Sono tutti splittati! Tutti in casi diversi! Siete simpatici va ragazzi! La taglia l'hanno già presa! Poi ho tolto il pin! Ho localizzato un contratto taglia! Abbiamo quasi soddia! Bocca cento! C'è da fare! Qua pure! Qua pure! Abbiamo! Due team che si fightavano! C'è lo shop qua! Due team che si fightavano! C'è uno più avanti! C'è uno più avanti! E' un più avanti! C'è uno più avanti! C'è uno più avanti! Facciamo i soldi che ho la velocità! Genaro! Affermativo! Mi sparano! Mi sparano! Oddio è un procedo! l'identità del bersaglio confermata una ricognizione sull'area questo proprio loro la nuova zona sicura un pallone per bruciarli un pallone per bruciarli un pallone per bruciarli autonomia UAV esaurita rientro alla base serve una ricognizione sull'area l'amici abbiamo solo quelli tra l'altro dobbiamo andare anche in lago l'altro 3, maledetto a me sembra che ci fosse... ma no qua è impossibile ho due qua davanti con un flyer cazzo non li vedi io questi qua almeno io sono nelle tende cazzo guardavo il radio questo è un bersaglio ho preso il pallone uno bombardamento di precisione alleato uno ha terrato uno di questi qua dietro Chris terra uno ok ti mani andato ti mani andato abbiamo un altro UAV proviamo a vincere ad avvicinarsi un po' di là denaro affermativo denaro affermativo la ci sto di si eh Luca si si scusa allarghiamoci solo a sinistra l'unica cosa che possiamo fare incognizione in arrivo UAV in salvolo ah sennò andiamo dritti per dritti metà marcata qui questo devo fare metà marcata alla finestra eh alla finestra c'è uno lo shop qua davanti a noi eh si ma nessuno lo sa rientro alla base è andato via però no ma c'è un spunfo non lo vedo per te dai il giro è dato io tolto la roccia ok dobbiamo prendere un po' di altezza qua sulla destra tipo andai qua qua sulla destra tipo andai qua metà marcata dal motel non so vai gruppo posto ricordiamo di farlo solo da sopra c'è entrato uno dietro a cric dove ho piglato io entrato da l'azzo via 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 siamo troppo non so che ho preso alla nuova zona sicura nel motel c'è qualcuno l'auto di equipaggiamento per voi ho fatto lo shop più sopra più avanti a noi qua laggiù mi sembra da fare un motel sento voi apriste voi che hai continuato a aprire no? si oh c'è davanti dove 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 all'angio qua ho tirato quello lì del giro che mi dicevi morto mi ho fermato siamo tutti nella zona sicura non siamo messi male ma non siamo messi la capire qui c'hai punizioni da salto io ne ho poche ma se volete ne da un pari riprendi la grazie 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 serve il cieco dimmelo? eh otto se vuoi tanto per eh già ce li ho no no ce li ho fuggito adesso sei team aspettiamo di vedere cosa fa sì sì tanto noi al massimo oh quell'altro vanno allo shop mi sembra sì oh non ho alterato uno qua nemico qui eh ho visto non ho visuale da qua niente sono lì dalla macchina è passato noi abbiamo mica dei palloni qualcosa un 5 team vediamo come si chiude voi avete mica la maschera in caso da salire qua sopra io sì 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 si potrebbe anche fare perché a sinistra siamo bassi no siamo alti in realtà ping blu c'è gente mio andiamo andiamo un secondo qua avanziamo questi qua erano in tre uno sembrava abbastanza bravino con lo sniper adesso hanno fatto il load questi qua in teoria sono sotto veloceissimo a prenderli mentre salgono noi ci buttiamo in questa casa e siamo comunque in safe 4 team ci abbiamo quel team lì sotto il team che ha fatto il load da davanti ora solo di questi qua noi abbiamo il ghost no? siamo ghostati? io non lo so non mi ricordo uh qua gente no forse non siamo ghostati vado qui gente qua ma sono rose tipo? eh sì no potrebbero essere quelli che erano sotto da dove? è là l'ho pingato va bene sì sì là dove avevo già pingato io c'è c'è uno fronte dell'oddy più o meno direzione dell'oddy nostro sì è lì dietro ho preso l'oddy granata partita questo è vero l'ho preso sì a terra combagni terra c'è di nuovo ancora quello dietro all'oddy eh ok 3 team 7 persone dovrebbero essere tutti di là eh si fightano pure provo a tirarvi lì giù qualcuno con lo sniper magari uno sta ce n'è di qua è traccato è traccato è una vergogna cazzo è una vergogna dio buono non posso sitarlo ti girerai da destra si 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 mi sparano però ancora quella casa ancora in quella casa questa è la sinistra nostra eh però dobbiamo andare dobbiamo provarci rega 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 andiamo 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 dio mentre mentre sparava il compagno lo so per terrare Sto andando sotto io, sto cercando di andargli sotto, completamente sotto In safe in teoria, possiamo provare a salirli a timing? Sì, cazzo, sì, ragazzi, che cazzo abbiamo fatto? Boom, baby, boom, baby, cazzo Qual è il nome del cieco che usi? È lo ZRG Lo ZRG, ragazzi Boom, boom, cazzo, vaffanculo, che winner, ragazzi Qua ce la siamo rischiata lì sul finale, guarda, abbiamo fatto una cosa meravigliosa Mentre loro stavano fightando Grandi, cazzo Grandi Boom, boom, mi piaci il tuo boom, boom Abbiamo cambiato l'audio del furgone, mi sembra tutto fatto meglio, tipo GG, cazzo, GG, ragazzi Super win, ragazzi, super fucking win Nessuno vuole giocare, ragazzi, allora? Bella partita completing grande, grazie mille, Salvatore Bella Non ti sentivo più, Cri, non so perché eri mutato Ah, ero mutato? No, no, ti ho mutato io Ah, ok C'è mutato e ho tolto l'audio su Discord, non so Molto bene Perché ho sbagliato a schicciare il tasto sulla tastiera Non c'è nessuno, rega Ve lo chiede un'altra volta C'è qualcuno? E allora sta la chiesa Se viene un quarto andiamo su Fortune Skip Che arriva, fuma, arriva Gioco io, sono Rufka Aspetta un secondo, abbandona Allora Vorrei ma non posso Vorrei ma non posso Vorrei ma non posso Bella Buonasera Ciao Com'è? Ma con quartetti preferisco andare su Fortune Skip Che è un po' più dura Quartetti secondo me Su Su Calvire Troppo team play Un po' più Un po' più hard Almeno qua siamo un po' più easy Com'è? T'ha posto? Tutto bene, vuoi com'è? Bene, bene Dai, mica adesso mi ha fatto pure una win Quindi siamo Con sorriso Sì, l'ho vista, l'ho vista Bella, bella Un sorriso Un po' rischi eh Mi ha fatto stick rosso E lì, madonna mia Infatti ho detto Minchia Mi ha fatto la cazzata Ma tanto Più che quello Non potevamo fare Devevamo per forza Crossare open Meno male che avevo sta maschera Che sono rimasto un po' fuori dalla safe Lì A curarmi Comunque Gli ultimi Quelli lì Uno va a 3DKD Uno Uno e 84 Uno e 78 Uno e non erano male La lobby era uno e 26 Bellino Attenzione Controllate l'attrezzatura C'è tempo prima della missione Ma cazzo Non c'ho le armi però E allora No, volevo mettermi le armi Cazzo Non c'ho il PPSH Ormai sarà solo PPSH Mi sa qua Only PPSH Al cimitero Cimitero Iniziamo lì Iniziamo lì Comunque Oh Luca Abbiamo vinto la lobby Uno e 26 Abbiamo spaccato tutti quelli forti Sul finale Visto il live Visto il live Grazie 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 Tutto voi Alla fine Uno e 26 Pazzesco Si sta avvicinando Un po' forte Questo lì Ci ha fatto da scudo Sul finale Si è fatto uccidere Per farci da scudo Non pensavo Di rischio A farlo contro Eh ci hai creduto poco Sei arrivato anche un po' dopo Due siringhe Eh ma perché mi stanno diragnando Due siringhe Nel mentre mi sto scudato Nel mentre qui è finita la macchia Lo davanti a me è uno Dov'è Eh si era tuffato qua Eccolo là Ecco qua Questo bersaglio è ostico Non ci credere Ah è rientrato Però c'è un mitrone Perché hai continuato a sparare Abbiamo l'odd Abbiamo l'odd Ti lascio i soldi Settemino e cinque qua Un noto a tutti i soldi Dimenticate quello che ho detto Tu avvi nemico attivo Tu li pushiamo con cattivezza L'accio gli ultimi quando penso in arrivo Nemico in arrivo nell'area Arrivano Qua qua dalle mie spalle Sotto qua c'era un bot Eccolo qua è entrato Lasciate gli scudi per favore Qua fuori qua fuori Vieni Vieni Sì lo prendi lo prendi lo prendi Sotto qua fuori fuori Niente qua Qua dentro Altro il mio baggiamento tattico Andollare Sì E' il gas vi raggiungo! Quello che avevo sparato in volo, l'hanno arrestato mi sarebbe... Vabbè, abbiamo i soldi per un WAP, sicuramente! Ha fatto un Lodian qua dietro, andiamo a prenderli? Siamo tutti i soldi, andiamo a prenderli! Voglio un attacco aereo qui! Qui, Phoenix 3, attacca il corso! Siamo tutti i soldi, andiamo a prenderli! Ricerca iniziata, dobbiamo compicare! Nessun nemico colpito! Ecco il bersaglio, va abbattuto! Non me lo chiama! In scansione, in uscita! Oh, c'è uno qua davanti, cazzo! WAP, alleato in volo, dategli la caccia! A presto! Oddio, 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 oddio! Mi raccomando, non spararmi a troppo! Lato di equipaggiamento per voi! Siamo sopra! Sì, c'è una cingua! Arriva il gas Marco la nuova zona sicura Serve una ricognizione sull'area UAV in sorvolo Ti forse no Ricerca non mi scappare con il denaro Fermatevi Rimangono 24 nemici Uccidili tutti Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Eccolo eccolo Si ho visto Mi tengono sotto tiro Ando avanti Occhio dove spari Oh no E' un po' scaduto Fallimento Sembra di sentire un flyer Oh ci sono sul pietro Fire sul petto Serve una ricognizione sull'area UAV in sorvolo UAV ne vinco attivo Buono Mi hanno fatto i due Faranno prendermi le armi Il mio PSH Chi la prendo? Non so, io non ce l'ho oggi Poi vorrei averceli Autonomia UAV esaurita Rientro alla base E' tanto qua davanti Troviamo un po' davanti C'è Allora Qua c'è un flyer Qua c'è Siamo tutti nella zona sicura Ho un contatto Spendendo l'altro Spendendo l'altro Siamo rinchiuti qua come i topi Sono uscito Ma non ci credo C'è ancora il bombi Alla nuova zona sicura Ho un'altra Un'altra Sì sì Vadaaa Bacca butta C'è l'offronto a me Mettatissimo C'è l'offronto allo shop Tipo eh Tipo qua era Stiamo vicino Vediamoci Mi serve una ricognizione Sull'area UAV Sul volo Ci sente qua Ma non so Ah ma Sto tornando L'obiettivo è stato marcato Bisogna Riturno sta per finire Nesta bel piattata sulle spalle Noi ci fermi Prezzi tornati al propanitaggio Autonomia UAV esaurita Rientra alla base Un'altra 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 Nice push Guys Ce l'abbiamo UAV Abbiamo un botto di soldi Facciamo UAV Denaro affermativa Lasci i soldi Mi fate quello che volete Sarvi una ricognizione Arrappiamo il botto UAV Un'altra Un'altra Quattro team Laggiù Ho un contatto Sono due qua davanti Ragazzi Sì visto Visto Un'altra Un'altra Dove devi andare Alla tua destra Qui Peccateli Quattro Tutti sotto Sono Autonomia UAV esaurita Rientra alla base Qua Si sono presi tutto Quattro Quattro Pagno Arrivo Quattro Che c'è sono sott C'è posso Sott Rientra Non ho più disponibile E il gas si avvicina No Da io andrei in safe Frega A poco Ataca Grazie Gabbana io ho messo la terra giù a terra tutti cerca di coprire le tue tracce sei la parte fatti tutti terra quello che ti sparava sono due team mancano più pochi sul campanile ma a me spara un altro è quello di là dicevo io ho localizzato un contratto taglia c'è dei cassamoni ma è un altro è un altro non è quelli che dico io dove si spara voglio un attacco aereo qui qui finix 3 attacco in contro dimanentato ce n'è ancora uno di quel team ok c'è negli ultimi due se non ce l'abbiamo front ce l'abbiamo front tipo qua non ce la salto pusha 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 lo stunno stunnato gii 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 qui siamo io e sara quando hai due post ci siamo e allora facciamo ancora un paio di game noi poi giriamo bella monkey grazie per il like scusami ho visto solo adesso il like ma è fucking ganes che team belli mi hanno pushato dall'inizio alla fine mia cosa che vuole il ppsh non l'ho my girl mo Sanders quel bombardamento ha fatto una strage infatti si infatti mi sembra che il bombardo non ti conta come neanche i danni che fai mi sembra se non sbaglio infatti porco diaz ha fatto una strage disponibile aggiornamento l'aggiornamento verrà scaricato va bene va bene se mi dici così va bene va bene infatti via pian piano abbandonati tutti non mangiavano più no no è che probabilmente con l'aggiornamento si delle playlist hanno fatto un po' di casino quel bombardamento uno l'avevo ucciso forse l'ha confermato l'altro ben arrivato ma poi stavano affaitando tra di loro c'era ancora uno assurdo l'ha buttato il bombardamento io io gliel'ho tirato addosso si sono sposi tutti per me io pure quelli nel buco l'ho fatto io te tre col bombardamento ma lì ti dà soddisfazione quel bombardamento che li uccidi tutti perché siete tipo quella specie di vibrazione che li uccidi tutti abbiamo rullato abbiamo rullato cioè non c'è stato un momento di crisi c'è proprio rullati tutti non siamo mai morti pure no io una volta sono morto bene sono trovato uno davanti e uno dietro ma no hanno tritato ah io volevo farmi ah non mi modifica equipaggiamento io volevo il ppsh cazzo beh tengo l'arma a guerra dai se lo trovo bene okri ho visto sotto solo sottotitolo io e Sara ma non capito una cosa dicevo che adesso allora facciamo ancora un paio di partite noi su fortune skip e poi cambiamo il roster e facciamo entrare te e Sara direi così poi giochiamo tutti tanto poi non so più tardi comunque ci sono fino a tardi niente oggi ha deciso che deve fare casino non trova le partite sembra che poi entra poi esce ti sa ragazzi per il like hai visto il 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 reels che ci sei anche te che ci sei anche te quando sei della capanna che ti uccido fatela vedere va non Ora vado a vedere Brava C'era C'era a un certo punto Sono io che saltello E sparo praticamente lì Nella capannina Ti prendi l'headshot In the face Nemico in a ringo in l'area Yes, yes Sarà un po' da fightare forse A linearia Spagatti Noi non abbiamo paura Noi non abbiamo paura Noi moriamo tutti Subito Appena buttato Presi dall'euforia della parieta prima Sì Sì Non voto i geni Sì 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 Mio salvatore chi ha? Io, io, io No, mio cane Leva il pombo No, l'ho distrutto, l'ho distrutto Mamma mia, come ha fatto a non morire questo? Voglio vedere chi ha la vita rimasto Sicuramente mi ha missato completamente Mi ha ucciso lui Non è ancora finita Cosa che c'è? Chavez di sotto2 Che stupido Mio, il giro Mio, il giro Stupido un po di situazione inforni sullo in arrivo un amico attivo membro della squadra in rientro guardamento di prevision guardamento di prevision guardamento di prevision guarda l'impasto un amico attivo membro della squadra in rientro Ah dai, ultimo qua! Ah! Dove apri nemico attivo! Nemico in arrivo nell'area! Tempolo della squadra in rientro! Due! Attacco al trappolo nebietro! Un altro! Ah dai! Non è entrato? Non mi fanno scelta! Non mi fanno scelta! Oh dai, oh! Venisco a te! Mi chiamiamo! No, ce n'hai tutto! E' completamente estordito! Completamente estordito! Dio, cosa ho visto? Ma Mr. Shea cazzo ho visto! No, no, visto Rufka che si chiara ha fatto un piccolo! Attacco a trappolo nemico! Alla riparo! F***a che scena con me! F***a! Ho sceso con le cartane, porto Dio! Con le cartane, porto Dio! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Sto pushando, ci avete quello con le cartane! Attenti! Era uno! Vai, vensa! Fuori quattro bagno! Quattro bagno! Ecco il bagno di trampa, c'è il bagno per voi! Fuori nemico attimo! Corazzo, qui! Uno fa da me! Fuori nemico attimo! Cosa in avvicinamento, nuova zona sicura! I mercenari usano uno ricottero di rifornimento per depositare il denaro, tendentieri un agguato! Mi puntano! Nemico in arrivo nell'area! Sento correre come i pazzi qua sopra eh! Si si si! Noncio! Mi puntano! Un nuovo alleato è appena rientrato! Disculpatore nemico indicato nella vostra zona! Allocaustere! Un altro! No! No, due, tre! In piedi! Sono restato! Non ci credo! Ma quanti erano là dentro? Ma quanti erano tutti ammassati? Ma io non ci credo! 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 Sto subendo il fuoco nemico! Sto subendo il fuoco nemico! No! Che sfiga! Procedere gli stai in te, Quando sono uscito c'era uno, poi ce n'era ancora un altro! Uggh! Quanti cazzo eravate! Quanti cazzo eravate! Quanti cazzo eravate? Uggh! Vi giocate con gli altri, raga! no no rimane intanto ti dico ancora un paio bella scivigas per il like ok si 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 tranquillo poi sei l'ultimo arrivato di tutti ci manca quando poi al momento in senso gli stai con due slot poi tanto poi piuttosto si ma tanto poi ti dico tanto poi se ci sei fin a per mezzanotte ma magari non so stasera magari su un po con ariana che è tornata da milano e magari ci becchia domani mattina faccio ancora un paio quando è ti lascio il posto agli altri non c'è nessun problema c'è monta che sta giocando ma come non lo vedo online io sul gioco ma su cod mi dice sta giocando a call of duty su discord sarà offline ma Grazie a tutti. Grazie, grazie Mike, per il follow, benvenuto. Buona sera. Oh dai, porto addiozzi. What's up, chilling, chilling, yeah, yeah, oh my godness, chill, chill, we break in trio. Oh, ma in inglese sono davvero un cane, aiutatemi, 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 help me, my english is very bad. Oh my godness, oh my godness. Oh my godness. Oh my god. Uccidete i nemici senza che lo facciano loro. Oh my godness. Ok, ci abbiamo i soldi, eh. Facciatemi i soldi qua. Lascetemi i soldi, raga. qui sembrano bravi almeno non so che la quina faietata mi sembrava o zobra non è sceso invece restate in venti cinque, tieni gli occhi aperti la scelta di guarda vai ma sono più di uno no l'ultimo no non è l'ultimo si finiti tutti sono le mie armi si sparite le mie armi è che ha preso il mio auto non più uno è sotto l'ho sparata per averle preso uno degli altri qua è qua no che si 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 Ah, provare a prendere un uova vita, eh. Un nemico in arrivo. Agenda da me. Ricerca iniziata, scopiamo nuovi giocattoli. Ah no, avete fatto l'altro coso, non posso tirare uova qui, cazzo. Un nemico attivo. Cazzo, tirate quel coso. Orca Dio. Oh, vuoi tirare, vuoi tirare adesso? Oh, dietro, dietro. Non ho fatto tiro. Cerca di coprire. Ma perché mi cambia l'arma, rega, no. Che verde, mu, 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 mu. Beh, arrivano gli altri, mi sa, eh. Ma che mico? Mi ha cambiato l'arma, porto bene, rega, mi avete visto. Sto rincazzando con me. Autonomia UAV esaurita, rientro alla base. E, non, sta attim' sotto. è una nuova zona sicura un altro io credo rialzati rialzati vivo perché io credo eccolo e non lo posso piccando dietro il tetto è camberato dietro l'angolo la 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 Sopra, 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 cazzo. E' lì sopra, cazzo. E' lì sopra, cazzo. Ah, vado, vado. Sono ancora in giro. F*** me! Ho inseminato i cacciatori nemici. E' la fine di colore! Non so forte, non dai, meglio di... Eh! Però vi chiaro ci sono gli sniper, cazzo. Stai per me diverto troppo, eh. Questa l'ho di qua. Oh, gente! Da me! Mi hanno colpito! Mettantissimo! Oh, mi sono bloccato, ragazzi! Bombardamento di peggio nemico, più! Bombardamento di peggio nemico! Oh, no! Un team che ha fatto l'odi qua da me. Sento correre, forse, corro. Non lo so. Abbattuto! Lasciami i soldi, i munchi devono farci un munchi. Ma forse c'è un flessibile. Dove c'è un flessibile? C'è un flessibile. C'è un flessibile. Siamo uno all'altro. Vediamo le super taglie. Caprici. Questi deventazioni di acquisto ritoccate. Identità del bersaglio confermata. Oh! Dio, Dio! Dio! Ok, arriva un altro! L'altro ti sta guardando, si sciocò davanti a me. Massima allerta! Ritorno fatto per finire! Ritorno! 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 Pensati al... Alla davanti del scioppo. Si, ti vedo! Ho fatto un pallone per la forza, però. Ah, schifo! Sono due, quattro! Uniamoci là! Ne manca uno, comunque, di team. Sono quelli sotto pingati. Questi qua. Iniziamo a raggrupparci. Vedete che ti stanno per pushare, Luca. No, no. Stanno sotto. Stanno sotto, stanno sotto. Stanno sotto, su. Stanno tutti venire in safe, però, eh? Sì. Attenzione se salgono qua. Laggiù! Madonna che traccata, boys! Che traccata! Oh, no! Manca l'ultimo, eh? Manca l'ultimo, eh? Manca l'ultimo, eh? Che cazzo di traccata! Che cazzo di traccata! C'è una nuova zona sicura! Che è dato in volo! Dategli la cazza! Non ti entri? No, no. Eh, sono da loro! Era la nuova via! Mi sembrava che fosse sparare! Sì, sto facendo lo scemo! Lo fa! Sto facendo completamente lo scemo! Bella, cazzo! Bello, bello, bello! Cioè, sul finale, beh, lì ho fatto di quelle traccate, madonna mia! Che roba! Comunque, raga, io non lo so se è un bug o che cosa! Cioè, la partita prima su Fortune Skip c'è un KD della lobby che è ridicola! È ridicola la lobby media! Ma che cazzo è? Com'è possibile? Cioè, abbiamo fatto il game quello lì in terzetti, 1.25! Adesso quello dopo, io mi vergogno anche a dirlo che... Che KD abbiamo trovato prima! GG, GG! Grazie per le 50 stelle, Riccardo, grande, cazzo! Un altro vincere! Oh my God, un altro vincere! Dai, facciamo... Ah, non mi sento! Io vi abbandono, vi lascio i posti! Ah, ok! Dai, ci sentiamo, Kree! Ciao a tutti, ragazzi! Aspetta che... eh, ciao, 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 bello! Vabbè, dai, ci sentiamo, Massimo! Sì, sì, no, è che... Se non sono da PC ci mettono un po' di più a entrare nella lobby, nel party, diciamo! Ah, mi sento! Quindi te li salutati, ma loro mi sa che non ti hanno sentito neanche! Ah, poca troia! Te li saluto io, dai! Saluto a Little, dai! Yes! Bella, bella! Dai, ci sentiamo domani mattina? Sì, e ti lascio anch'io! Così fai un bravo e due ragazzi! E, Luca, sì, mi dispiace! Comunque, al massimo, più tardi, più tardi ti rinvito, comunque! Vai tranquillo! Vai tranquillo! Bene! Va bene! Ciao, grazie! Bella, bella, Luca, grazie! Ciao, bello, ciao! Ciao, ciao, alla prossima! Allora, Vincenzo! Invita! Ecco! E comunque, vedi, Mr. Schiccio dopo! Cioè, gli amici! Un piacere guardarti sull'isola! Grande, cazzo, Riccardo! È lì, nel casino! Ma hai visto? Ci ho fatto una traccata prima che sembrava Aimbot, col mitrone lì! Sembrava veramente Aimbot! Adesso vedo un po' se c'è Vincenzo, perché... Eccolo! Ola! Ciao! Bella, bella, Vici! Ciao, ciao! Hello! Eccoci! Eccoci! Buonasera! come stanno andando le partite bene bene in realtà su 5 game l'abbiamo vinta 3 quindi direi bene io la stavo guardando per questo aia pare che ci è capitato una lobby che era veramente non dico che cosa la partita in trio che abbiamo vinto mi chiamo 1.26 quella dopo è sotto il 0.7 caffa di medio sto gioco è veramente random cioè proprio veramente veramente random no bisogna sperare di boccato ah si speriamo ragazzi tutto bene i game sono andati bene non mi sentivo abbiamo fatto due partite su br direi di no non mi c'era adesso ma poi ho due giorni che non gioco eh si non giocare fa mi ha dovuto ristellare tutto perché mi continuava a cresciare cioè impressionante oh chi è che ha pingato visto che mi sono buttata io io cosa aggiunta madonna tutto il mondo è un po' è craccato ok io neanche mi vedo siamo morti tutti i tuoi compagni sono morti resistitino al loro rientro eh io stavo mandando un messaggio e da una parte forza c'è un'attacchia che via un amico attivo grazie sento la cassa quante cazzo ce n'è marco un fucile d'assalto bella papà bella papà grazie per il like oh quando è che ti ti rimetti a posto il pc che viene a giocare un po' con noi papà domeginu vediamo di nuovo domeginu ho testa mia non farci il lodi non c'è la zalla non botto di soldi mi lascio i soldi in caso vi sarò qualcosa ma è vero che adesso prima c'è la maschera ho avvistato del denaro non so dove andare si 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 vai dategli la cassa non so dovevo che di gente vediamoci qui vediamoci qui vediamoci qui non infatti abbiamo anche gente di qua di lato che hanno fatto si ti hanno fatto sentiti qui oh no si sentiti qui fuori cazzo fuori cazzo vado attacco il fio unico in arrivo nell'area no sentiti qui no mi hanno compito lì che è forte questo io gli ho fatto il bombardo lui proprio tranquillità non si è preoccupato del fatto che gli avevo fatto il bombardo sulla testa qualcuno mi ha rubato il monitor quello c'è ragione tutti vogliamo di nuovo operativo tutti ti vogliono di nuovo operativo cazzo chiedono di te questo bersaglio è ostile questo bersaglio è ostile e non risparmiano i colpi no no non ci ho rimossato ti hanno anch'io oh coglio ma è restato come è restato come è restato arriva il gas marco la nuova zona sicura non lo ho fatto ma basta questo ma lo sniper ogni volta da dietro ma mi ha rotti i coglioni ma sempre da dietro ma donna ma cos'ha è fortissimo questo ma vado all'olatore no io non riesco a sopravvivere c'è stato questo qua con lo sniper che è boh addio i rinforzi sono in arrivo devi fare di meglio dentro della squadra in rientro la regia mi sa che c'è tanta gente lì c'è un altro che ha preso il mondo ma boh non è stato pieno da perciutto c'è un soldato ne viva c'è un soldato ne viva 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 i rinforzi sono in arrivo se non mi svinciava l'arma porco faceva quel movimento strano che si spaccavo quelle cazzo che mi portiamo in prima linea dacci dentro cazzo in movimento qua dei soldi per un loto di raga abbiamo un voto di soldi caazzo andiamo qua? Line E' una lì, rega. Oh, sono folle. Piatta scomunione. Potete prendere qualcos'altro, le scuole non vuole. Ah, carai. Sono forse o trafitto. No, vedo cazzo. Ma dove cazzo stanno? Un po' di gente. Un po' di gente qua davanti a me. Sta cercando di arrivare qua. Un po' di gente qua. C'è uno sotto che ha aperto una porta qui. No, quello io, mi parlo. Strutturato. La terra. Ci sono un'altra? Bella. È un tre team? la gente qua sopra c'è lo solito snipe questo non si è non l'ho distrutto ha rotto le balle uno l'ho confermato sono rossissimo ovviamente c'è gente vicino eh magari è il flyer nooo quanti erano? no way ok allora faccio il coniglio io non so che c'è l'esca tipo ah ok vai col senso ah guarda il pezzo dai forzi sono in arrivo tuo penemico attivo è ancora mia oh ma che mamma non ho scoperto allo spronto due serve una ricognizione questi arrivano rega no è possibile rega mi è riuscita a restare veloci? no mi sta pushando sento gente sento gente correre da me eh si 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 da me da me eh sì non è riuscita a strato neanche non l'ha fatta a perdersi in calcio rega oh la bevei anche dall'altra parte sulla finestra ah vinci l'immortale non vuole tentare di andare lì ma non laghi eh Vincenzo sta lagando il sacco ah ma il vinci dice che sta lagando? eh sì Vincenzo sta no ma Vincenzo vince? ah ma mi lagga ah ma come cazzo fai a giocare che ti lagga così bene Vincenzo c'è qualcuno sì io ci sono ok ma stai laggando? ma c'è ma te giochi tutto il tempo in quel modo lì che vai tutto a scatti così no c'è quando gioco le partite eh tipo adesso tu sei tipo adesso sparavo sparavo ma secondo me li prendevo ma non li prendevo stavi laggando stavi laggando ho visto quando eri lì col paracadute avevi come la spia della macchina avevi tutto acceso c'era lag packet loss avevi tutte le spie accese porca dio cambio dell'olio c'era pure vinci all'internet qua che non va porco schifo ma perché tu giochi da vostro spot eh allora sì no ma questo problema c'erò quando gioco con lui ah ecco sì sì questa mi è nuova questa mi è nuova però va bene dai oh fino a prima ho giocato non l'ha fatta ora questa partita odio se comunque non avevo visto c'erò 14 di kd prima cazzo è possibile controllate l'attrezzatura c'è tempo prima della missione cazzo è un soldato nemico cazzo è un soldato nemico non lo si cazzo è connections a pepe E' qui Ma ci sia Che cazzo ci siamo andati vicino comunque Basta giocare Prepararti al lancio sulla zona di guerra Che cazzo lo muore Non andiamo lei Andiamo dove vuole Vincenzo ragazzi Vai Tauce, vai Tauce Oh, dove vogliamo più Un voto di gente eh E' un voto di gente eh E' infatti mica tanto adesso voglio E' un voto di gente Un voto di gente Un voto di gente Guarda Ma mattuccio ma veramente che devi insultare così Madonna che Che sfida che c'ha addosso Ma avete uno qua Augurare malattie devi c'ha Devi essere proprio Devi essere proprio stupido Uno qua eh Non invidio i tuoi nemici Ho sparato a voi Nooo Nooo S'ha arrestato S'ha arrestato S'ha arrestato Sì vai via vai via Oh ancora io Sì vai via Non si sono in arresto Oh fordio Non ti sparavo E l'hanno fatto all'odio Cioè sei uscita praticamente senza Senza avere il nome sopra Oh ok Nooo ci vediamo Dalle tente dalle tente Morto uno 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 dalle tente E' cercato con il ficeo davanti Ma capisci che era a fuori Non lo è Oh shit Questo Certo Tu non mi piace Non ti ha fatto qualche parte da ti eh Vicenzo Oh è qua 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 Ok Galax Eh Muori Si sta correndo addosso uno con lo scudo No, io li sto diamo Sto chiedendo anche la safe Da sopra anche Lario, quello con lo scudo è ancora di là È vincere verso di te Sto andando via Scracciato quello con lo scudo A terra, a terra Sì, il problema è che Sto sparando a scopera No, va Tantissimi di che si può Sì? Tuo alleato è appena rientrato Non sali dopo uno Cassa in avvicinamento Nuova zona sicura Uno qua Ma vaffanculo Perciò di No, va Non so Sotto, va Mi sto, mi sto, mi sto repugascando a scopera Qua, qua, dentro la chiesa, dentro la chiesa Mi c'è un nemico Due sono Mi rinforzi sono in arrivo Tuo appena mi coattivo Andrà tutto bene Da farci un lodi qua, se volete Vai, vai Vi lascio i soldi nello shop Allora Non c'è lo shop qui sopra Non c'è lo shop qui sopra Non c'è lo shop qui sopra Non c'è l'arrivo Che è che mi spara Non sotto di me, eh, regà Oh, qua dentro C'è un altro in questa casa qua mia, eh Dove sono io, eh ma da dove cazzo ci sono appena passata ma che schifo non voglio arrendersi finta che vincere se può morire davanti vincere non è parecchio i cazzo li non so se riusciamo a prenderci l'ho di... sei riuscita a prenderci l'ho di sopra? ha mai sparito cazzo l'ho di sopra ma da dove? c'era uno sopra c'era uno sopra cazzo l'ho di sopra ma dai no io non riesco a scendere uno sopra l'ho di sopra ma questo era quello che mi aveva insultato mi aveva augurato il peggio ma questo c'ha un po' una traccata un po' strana non sopra l'ho di sopra non sopra l'ho di sopra è un po' bene colpito hai un'altra opportunità per fare la differenza adesso andare non so stavo un minazzo non li vedo non li vedo mi prendo sto qui per una salera però qui non li vedo membro della squadra in rientro è un ritorno nooo cazzo non mi sono lasciato andare non ho visto non c'ho più rientro non dovrebbe interessarmi da qualche parte no ah.. aspettate che trovi soldi Avete mica visto dove era l'arma quella che ha fatto l'uovi delle casse? La cassa qua l'azzura, qui è qua, è qua, è qua. Sì, è uscita. Andate a prendere! Quello che c'ho lo sette RG, cazzo. Tua fine, amico, attivo! Uno, due, c'è uno sopra. A terra. Non ho capito da dove mi spravano e mi ha spenso il sforzo. Che vado a vedere il pizzo, ah! Eh, non ho scusso, cazzo. Ah, stanno a prendere! Oh, mi sono! Non si ripeterà! Mortigal! Un altro impazzito, sti italiani. Mi hanno lanciato con le... Five! Ecco fatto! Serve una ricognizione per andare! UAB in servono! Tutto qualcuno ha dov'era molto prima. C***o, mi sono buono! Comunque, sto mattuccio... Madonna che sfigato! Insulta solo! È capace di insultare solo, ma... Mamma mia, è un gioco, eh! Svegliati, porco Dias! Autonomia UAV e Dauritavi! Alla nuova zona sicura! Gassi... UAB! 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 Non è confermato! È due, è due! Uno a terra! Eh, purtroppo c'è uno anche qua davanti! Però la sta morendo! Siete rimasti in cinque! Vai fino in fondo! Arriva in là! E con la nuova zona sicura! Siamo due contro uno! Andiamo, anticipiamo già la safe! Anticipiamo già la safe! È qua, è qua! Grande cazzo! Grande cazzo! Boom, 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 boom! Comunque Belì, eh! C'era sto Twitch mattuccio che è italiano, mi ha insultato tutte le volte che l'ho ucciso! Ma che cazzo c'hai da insultare, Belì? Ma svegliati, Belì! Sarebbe adesso da fargli un bel video su tipo Instagram o TikTok tutte le volte che l'ho distrutto e fargli vedere che mi ha insultato tutto il tempo! Madonna mia che la gente veramente non... Non sta bene, cazzo! Gioca, Belì! Ci sta a incazzarti, ma mica! Mi sembra che prima abbia detto tipo... Mi ha veramente... Arrivo, arrivo! Prima che abbia detto qualcosa tipo di malattia perché stavi dicendo qualcosa così! Sì, esatto! Mi ha augurato, diciamo, una malattia grave! Poi dopo adesso, Belì mi ha dato il figlio di puttana, mi sembra! Madonna mia! Che sfigato! E intanto il game l'abbiamo vinto noi! Cazzo di cazzo! Bella Stefano! Com'è? Bene, bene! Stiamo facendo un po' di... Di game! Stavo guardando su Twitch! Eh, lì! 5.000 follower pure! Ah, pensate che... Che roba! Bene, bene Stefano! Guarda, c'è stato prima... Abbiamo fatto, guarda... Mi sembra... Su 4 game... All'inizio 3 win! Anzi abbiamo fatto tipo 6 game, 4 win! Una cosa del genere! Non fire! Appena stavo guardando... Aspetta... Aspetta... Non posso guardarlo qua... Poi c'ho più o meno 10 di campati! Ci stiamo... Distruggendo ragazzi! Stiamo scioccando! Intanto mi devo un'orange soda! Non sta piovendo! Non sta piovendo! Non ma non c'è... Non c'è... Ci stiamo facendo le anche... Non c'è... Poi c'è... La cosa... Che... Ma'è... Grazie a tutti. 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 Vincenzo che ci hai portato fortuna anche se siamo morti tutti. Pingo, io pingo. Pinga, pinga, prenditi le tue responsabilità e pinga. Puoi? Ho capito. Vieni, 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 dimmelo. Era una canzone oppure sei andato a tempo di musica? Mi sembrava voluto così andato a tempo di musica. No, per me per me. No, per me stavo avanti tutto, e... è la bambina. la bambina cerca di coprire le tue tracce allora io non ho capito che scendio ma se non crescevo ve la taglia non sapevo che qua c'erano tutti è stato da prendere troppo aggiornato nuovo obiettivo pure va aperto dai un po' inflessibile dai diamo un wall shot facetemi soldi che hanno fatto il lancio eh dall'altra parte proprio guarda lancio di equipaggiamento alleato va bene me il coattivo sono qua eh ho tagliato il bombardamento bombardamento di precisione nemico oddio la droga abbiamo un team intero lì eh abbiamo un team intero lì eh uno è sceso due sono scesi si donna eh anche dall'altra parte mi sparano tu avrei alleato il volo dategli la cazzo dove andate adesso non l'ho fatta io non l'ho fatta io entra qua no vieni per questa casa vieni non l'ho fatta da rotta non l'ho fatta da non l'ho fatta da non l'ho fatta da Ma qui se mi vuoi Mamma mia le cose casate Oh dai oh ma che cazzo E mi ha ucciso Marco cavallo Ridic ma il tuo vi alzi Ma Togno cosa vi alzi Cosa vuol dire Ti dover vedere Marco stai buono Stai buono Marco Tuo mi bannano E' una cassa di scopre Andati a prendere Stai buoni Adesso mi faccio Guarda se mi dici che fai gli abbonamenti Guarda mi faccio il sito only fans Guarda Marco la nuova zona sicura Ma l'avete atterrato? Si Avevo visto cadere un po' di culo Quindi è atterrato Cosa vuol dire Ma manca andare in safe già Di meno ci devono andare dopo oh no 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 c'è uno davanti della casa si infatti mi sta facendo di tutto mi sta autoressato davanti a me non li vedo in qua c'è la mente alle mie armi due kill non riesco a far chi madonna che cesso di cosa mi portiamo i primariri no diapro le casse ma dov'è che sparano l'ha un genzo davanti sicuro l'ho visto ma ma qua è ecco lì possiamo anche andare in safe uno è qua dietro eccolo è qua è un po' tracciato vittanato vince aiuto cecchino dai la vince ma baffan brodo non invidio il tuo cappello cazzo guarda non mi si vede 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 ma questo è un altro questo è un altro vediamo già in safe rega di la stanno come si chiude di la dall'alleato nuova zona sicura e questi si continuano a sparare quindi due team ce li abbiamo solo a sinistra se ci posizieranno già non è male adesso vado a tirare un UAV magari ultimi 10 non devi mollare sono due team si stanno ancora fightando mi sa ricognizione in arrivo ii sono tutti di la rega anticipiamoli faccia i soldi prendi un UAV mi vado già posizionare qua rega riuscite a fare un bombardo su quei tetti laggiù lo faccio io lo faccio io io mi sto già posizionando rega auto io sto cercando autonomia UAV esauritavi ritorno sta per finire testa ben piattata sulle spalle ho io preso uno stacco a grafflo ii sono tutti retti tornati alla normalità cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team nemico allora io troppo tiro un UAV poi dovremmo averci tutti più o meno comunque dalla parte di keep ah sento qualcuno urlare ah io a timing mi alzo a timing mi alzo sono sul tettuccio questi allora uno è sceso qua ok sono tutti qua davanti a me cazzo ma che fucile ho prevedo ok stiamo a fightare stiamo a fightare come i passi attacco a grappolo alle autonomia UAV esaurita rientro alla base uno è qua non invidio i tuoi nemici madonna che schifo di fucile che ho rubato l'incenso si è rosso uno è qua ecco il nemico lo timing si devono tutti venire verso di noi eh ho visto qua non viene verso di noi non viene verso di noi una terra verso di noi riuscite a confermarci questo qua questo sotto di noi riuscite a confermare magari l'autoress eh magari l'autoress questo sotto riuscite a confermare mi tiri su mi tiri su mi tiri su scusa comunque lì c'è l'autoress sicuro rega cazzo non cazzo stiamo facendo un giro che ho finito ma non c'è l'autoress sicuro abbiamo ancora quello sotto di noi uno che ha fuoco su questo nemico ma questo vi dovrebbe fare strabi due a cena dai ti dà fuori Abbiamo sempre uno tipo dietro da qualche parte Guarda c'è qua Abbiamo uno qui dietro eh Abbiamo uno qui dietro Abbiamo uno qui dietro Abbiamo uno qui dietro Merda mi ha visto Eh mi sa che c'era ancora una Sono sotto qui sotto eh Ah ce n'è uno open Rotte Ma che cazzo non c'ho colpi di assalto Tu madre è mia Merda bennardo Questo qua mi ha insottato con la madre Nooo c'è sta un'alto Arrivo c'è una nuova zona sicura Sono qua davanti uno Non riuscite aiutare? Forse due del futuro Sono tutti sopra gli altri Mi sa Dice ne stanno due eh Allora uno qua terra Eh ho due E lui l'altro mi ha visto invece Porca Eva E' dietro il sasso L'ultimo vangolo Lui è Oddio assolo E' restata la macchina Certo Ma l'impiassato Ma l'ha distrutto Che cazzo No Sul finale Si Non ho capito perchè siamo splittati così tanti Perchè eravamo lì porco dio Se li spaccavamo tutti Invece siamo tutti splittati Poi vabbè Io ho finito i colpi di assalto Nel momento in cui erano tutti open che correvano Ci ha fatto ridere sta cosa Tutti open che correvano Io non avevo più colpi di mitronio Fa un culo va Prilim Prilim Paratin Prendi Prendi Plati Prendi Padre Gius Parte C TransShell Calan Grazie a tutti. Ah. Comunque devo mettermi sta cazzo di PSH. C'ho l'arma guerra per lì. Io non mi trovo bene con il PSH. Eh, minchia OP però. Da vicino cazzo fa danni di satana. Sì che finisci subito il caricatore in realtà. Sto gay. Ecco lì. Orco schifo. Ma perché noi italiani uscite? Perché insultiamo così pesantemente? Io non ho capito. Vabbè. Ok. Solo te insultano perché tu non ci riuscite. Adesso mi ha dato dell'omosessuale. Mi ha dato. Non lo so. Dove andiamo, Vincenzo? Sembra che devo pingare. Vabbè lì sei... Sei il comandante, eh. Il comandante Vincenzo. Vabbè il pingatore. Dove hai pingato? Non vedo. Ah, no. Porco schifo. Questo è un attaticismo puro. Che pezzo, che pezzo. E' un attaticismo. La taglia. Non sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi. Ottenete tutti con le vostre azioni per farle tornare più in fretta. Nemico in arrivo nell'arco. Uccidete tutti. Via. Un sento la cazzo delle mie abbi. Ecco il bersaglio. Non l'ho sentita forse. È sopra. È sopra, è sopra. No, no, però. Andiamo a verso il quadro. Ho marcato un fucile di precisione. Via. Abbiamo lo sciopo qua. Io, 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 ce l'ho. Non è la tratta. Dietro c'è, dietro c'è. Ah, lo sciopo, lo sciopo. Ah, no. Mi sa, non ho fatto la volta. Ah, ma io non ho neanche un euro. Via, zò, mi sto perdendo. Come si fa a salire? Lascia i soldi. Ma adesso vado due minanti e ti lascio i soldi qua. Cazzo è sto sciopo. Ma è sotto lo sciopo. Prego. Perché abbiamo interasciato tutti i soldi sotto. Lancio di equipaggiamento di arrivo. Ah, due lanci. Nice. Io ho un bombardo. Ho fatto i soldoni. Atterrato, non ha giusto che fa il bombardo. No, no, no. No, non li davanti a te, eh. Pazzarona, mi ha distrutto questo. Non si ripete. Mi sento correre, potrebbero salire. Sceso il tipo. Una qua, è usciuto qua. Traci, c'è, c'è, c'è. Non si ripete. Mi sento il nemico attivo. Lombardo. Hai un nemico attivo. Dategli la caccia. No, no. No, no. No, no, no. Ah. Non ci credo, non ci credo. Ah, questo è l'italiano forte, cazzo. Fa ripro, boh, mica mi ha messo la... Mi ha attaccato, ho sticcato la freccia. Vedo un approvvigionamento. Hai un'altra occasione. Sfrutta la porta. Casse in arrivo, c'è una nuova zona sicura. I vostri denari cercano di scappare con il denaro, fermateli. Ma io 12.000, raga. Porco il sio. Bua fine, mi conosciuto. Dunque lì in giro c'è quello lì forte con la staccazza di cosa che sticca le... la frecce che esplodono. No, ecco la staccazza. Mi sa che... Mi sa che... Oh, ma non faccio. Ok, io scappo. Mi ha fatto pure a me. Mi sa che... No, ma cresciò da me. Sì, anche a me ne so. Eh, sì, sì. Sì, sta cresciando perché non mi salta. Niente, i 12.700 Tram per la prossima partita. Ma penso che io due giorni fa noi stavamo io rimanevo bloccata proprio in lobby. Vedevo ancora... Non ero... Cioè, neanche nella pre-robbby. Però intanto loro riuscivano... Loro giocavano, entravano. Loro intanto riuscivano a sentirmi, sì. Ah, minchia. Cioè, io ero qua, bloccata qua. Così. Sentivano, però io non sentivo nessuno. Calcola che sono pure usciti, hanno abbandonato la partita e magicamente li sentivo. Impersonante. Non lo so, non ero... C'è anche se non ho segretto. Che bello, domani è sabato. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ne ne... Che arata che mi sono preso. La cecchinata dietro. Madonna, che cecchinata. La cecchinata. Io, raga, mi stavo faccio l'entro. Sono un po' strata. Allora, io ero rimasto con dei miei amici che forse per le mezzanotte e mezza li avrei raggiunti. Quindi poi, prevediamo il bordo. Craccato, ho scraccato. Intanto io mi involo. Sì, dai, va bene. Che gioco. Io vorrei, vorrei io all'ultima. Fine dell'allenamento. Vediamo cosa avete imparato. Dove andiamo, Capitan Vincenzo? Comandante delle Legioni Felix. Bello questo ping. Dove? Allora, ho pingato. No? Dove hai pingato? Maronna mia. Proprio raggiù in fuori. Madonna, Vinci, a lui piace lì. Cioè, piace solo a lui. E' il giro. Con le vostre azioni, per farle intornare più in fuori. Bellale, bellale, bellissime. Ognuno vuole se è a goza. Anch'io ce avrei pensato a andare. C'è un ping qua. Chi voleva andare, vi vince. Fate piazza pulita dei bersagli. Oh, madonna, è assolutamente... Oh, saffiantino. No, ce l'avevo quasi riuscito a spregare, Vinci. Sei stata brava a non prenderlo. Faccio, mi senti... Oh, 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 viola, 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 viola. Volo, viola. Ma da sotto? Vieni, vieni, vieni. Ho guidato la riviera da fare. Marco, un fucile d'assalto. È lasciato. Un soldato nemico. Un film del tuo attimo. Fine scansione, in uscita. Non sopra di me è uno, eh. Voglio un attacco. Stavo con me, roghi. Richiesta ricevuta. Attacco a grappolo attivo. Mi sparano! Vinci la terra, grazie. Grazie. Algo. Poi lo devo dare. Ah, è all'essere il mio soldi. Ah, il mio soldato nemico. c'è un soldato nemico eh io ve l'ho tirato in realtà lancio di equipaggiamento per voi UAV in servolo lancio di equipaggiamento per voi eh gente gente madonna che schifo di l'album balder al nostro grazie no buona sì buona no buona qua eh a te verde grazie grazie oh di vostra questione perché? c'è un soldato nemico cominciando a allargare di nuovo soldato nemico? si sta arrivando in un altro punto dove è serrato è qua è sceso madonna neanche gli strisci l'ho preso straccato a terra io non ho più colpi non è possibile mi sta per vincere l'ingaggio di equipaggiamento per voi c'è un soldato nemico scontatti ma che cosa che non sta trovando colpi lo spalto è scontatti avrò certo questo è scontato è scontato no no grazie per il like grazie buonasera eccolo lì è arrivato un altro figlio di tu non c'entrò niente figlio di ma porca dio basta ecco il bersaglio per l'attacco aereo qui finix 3 attacco in corso nessun nemico morbido mi fanno lì non è qua Ah, che stravattratto! Non ho capito dove, non ti sento! Cazzo! Non la vede! Sì, cazzo! Beh, mi sembra che Vincenzo che gli soldi che sta facendo! No, 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 no! Vedi qui, non li sento niente, perché quest'anno è arrivato a sinistra! Guarda! No, però! Uno qua sopra! Uno qua sopra! Uno qua sopra! C'è gente! Al lancio! Sta dietro! Non invidio i tuoi nemici! Grande! Andrà tutto bene! Ecco un altro po' fatto! Grazie mille! E anche i vari maggi! L'obiettivo è stato marcato, bisogna eliminarlo! Arrivare il gas! Parco la nuova armatura! C'è un soldato di... Oh, Nè! Sesto gioco! 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 Mi ha tirato il fuoco Ma da dove è? Ah, mi ha preso tutto sopra Non mi sento Niente caldini, no? Niente caldini, no? Niente caldini O lì, le polime dei per fare un po' di caldini Porto un skip Così ne entriamo tutti per prima entrare Se no, la gente poi muore Vincimo, utili questo, Albi Gente, gente, gente Ancora uno Uno sta finendo adesso Albi Sono 15 colpi, Dimitri Non ho colpi un cazzo Avete colpi di qualcosa? Sono tutto a zero io No Ah, Paolo, vincere i soldi Ah no, adesso abbiamo... Il nemico è sulle tue fracce Fa attenzione Ormai son da loro io I rinforzi sono in arrivo I rinforzi sono in arrivo Un guardone qua Sento correre Sento correre comunque Che insieme non eravamo noi Sento gente lì nella casa dove siete Sento gente lì nella casa dove siete, eh? E' fuori lì, no? Non ti sento più comunque, eh? Rufka Rufka Ah no, 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 no Ah, ok No, 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 no Non ti sento mai colpi Scusi per arrivare con gli avanti Rufka Eh, guarda sì Purtroppo sì Attenzione, Vincenzo li uccide tutti Guarda lì No, li uccide Ma adesso sei negli ultimi dieci Ah, le botte, no Gli occhi, le botte Rane, cazzo, Vincenzo, porco Dio Nooo Ma abbiamo Village TTV, ragazzi Non abbiamo Vincenzo Dove non aprire le casche Mamma mia Oh Ti sparano i botte Ma qualcuno sta scavato No Ma questo è considerato bot, Vinci? Oppure... Questo era bot? Questo era un altro bot Ho sbagliato Non si è... Scusa, stavo parlando E' stato un duro colpo Ma che ne puoi cominciare Ragazzi, buonanotte Bella, 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 ragazzi Guarda che esco un secondo Ok Vengoci Ciao ragazzi, è stato un viaggio Bella, bella, vinci Alla prossima Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Buona serata Ciao Ciao Ma ti direi di sì Te Stefano ci sei? Per giocare? Ecco, bravo, bravo, entra entra Che andiamo un po' su caldaia, va Ma... Voglio disniperare un po' Bene Se arriva un altro ragazzo Ma dove sei tu? Io... Liguria Imperia E invece? Io sono albanese Ho visto in Italia Ora sto in Svizzera Ma è lì in Svizzera, cazzo Ho tre anni che sto qua Ma... Cioè... Conosco parecchi che si sono spostati là Nel senso... Per lavoro, subito Per lavoro, subito Cioè hai trovato subito un lavoro E sei andato su? No, non c'è stata la famiglia Ah, ok, ok No, non c'è stata la famiglia C'è stata la famiglia E ti trovi bene in Svizzera? C'è anche un altro mio amico che... Che ci vive Bene, bene Un po' stressante il lavoro Cos'è del genere, però... Sono... Sono ritmi pesanti lì? Sì, per il lavoro sono un po' pignoli Un po'... Diverso dall'Italia Altra mentalità Stanno sempre lì a vedere il lavoro Giorno e notte svegliano e vanno al lavoro Si tornano a casa e vanno al lavoro Però va bene Eccolo Stefano Eccolo Stefano Bella, bella Sì, ti ho sp... Ah, ok, sì Voi vi sentite invece su... In gioco, voi due? In gioco? Che io sono su Discord con loro Ok, perfetto Sì, sì, ti senti Andiamo un po' su Caldaia Caldaia prima su due game una win comunque, eh Quindi... Quindi... Buona buona Guarda, io... Non lo so... Non so perché ma... Tutte le volte che gioco... Sta cazzo di Fortune Skip Becco solo gli italiani che ti insultano Cioè, ho beccato uno che in teoria è... Twitch, tv, lì cos'è? Sono stato anche a vedere su Twitch Vabbè, non era live... Minchia, solo insulti Mi ha augurato delle malattie Mi ha insultato la mamma Ma che cazzo? Cioè, veramente? Solo... Solo su Fortune Skip o Rebirth Becco sti italiani che... Che ti insultano pesanti Non capisco la... Mi ha beccato un botto di italiani che insultava Beuh... Vabbè Si prende lo sniper e si vola E si vola Madonna, comunque adesso che ho giocato un po' Fortune Skip Ho messo sti colori che fa cagare bene E ti rendi conto ancora... Di più quanto fa cagare il... E te Rufka invece ti piace il... Caldera... Caldera ti piace o preferisci di solito Fortune Skip? No, gioca solo a Caldaia io Ah, ok... Meno male Si Si No... No, è troppo... Boh, mi sembra multiplayer No... La sensazione di multiplayer Eh, si, si... A me... Ti dico... Mi piace il fatto tattico della map Di muoverti bene così qua... Cioè... Qua c'è e di là non c'è Eh... È tutto random MW2 sembra pure più tattico Eh... Quello si Del multiplayer Ma... Non mi piace anche... Il beta del multiplayer Ho provato oggi ma... Zero... Non è... Non mi piace... Time to kill è troppo basso... Eh, però... Dicono che... Vabbè no... Il multiplayer ha sempre avuto il team Time to kill più basso dai... Magari su Warzone 2 Sarà sicuramente più alto con le piastre dai... Spero... Spero... Non ti sento bene... Ho c'è 4 Da 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 No, guarda, non c'è nessuno, dovrebbe avviare qualcuno dietro di me. La gente, ho sentito su di me forza. Un volo a terra, in italiano. Un altro qua in volo. Il scaglio in vista. Come i maia. Io sono stato io, sto sopra, vai, Tano. Minchia, spanno di brutto là su. No, ma senti più vedere come scende il load. Non è che se stiamo qua, mi sa che ce lo darò questo di loro. Allora, scendiamo che qui, scendiamo. Non ce lo darò di sopra con loro, una bella. Non è che. Quando scommetico, ho fatto da uno. Tantissimo l'altro. Avete confermato quello che ho ucciso io? Non ti lascio lui. C'è un altro che avevo craccato a merda. Andrà tutto bene. Stanno le loro armi. Ah, me le dà tutte e due a me le... Ancora qui. Un due, tre, i load. Un due, tre, i load. Arrivando un nemico, attenzione in alto. Non nemmeno, non nemmeno. Mi compago un po' di schifo, io sono a zero. Passo sopra comunque. U di nemico attivo. Cosa hai saltato? Oh, c'è uno qua! In terra! Sopra il tetto qua! Madonna che c'è qui una copicsellata! E' seressato! Lancia una stordente! Sta andato, sta andato! No, da dietro! Un cecchino! Sta sopra! Da dietro, da dietro! Dietro qua! Io non so più da che cazzo andare! Col gorenco sta! Un cecchino dietro, eccolo là! Un traccato! Uno di vita lì dietro! Ma dove abbiamo gli altri? Attenzione alleato! Attenzione! Cazzo facciamo bene! Non lo so, c'è gente sopra, c'è gente a sinistra! Oh, mi ha sparato nel... No, ero nel legno! Ero qua! Mi ha evitato quando ero qua! Nel corridoio! Ma come cazzo è possibile? Ah, mi avrà pingato! Mi avrà pingato! Non lo so! E' qua dentro! Colpi di medio calico qui! E' dentro la casa dello shop, diciamo! Mi riesce a darmi che degli scud, e non ce li ha! Non lo so! E' dentro! Non sto prendere le armi! Non so gli scudi che non li vedo! Non mi lascia! Ah, ma cazzo! E' da sopra si stanno vendando un parco! E' qua dentro! E' qua dentro! No, no! Io quasi, quasi cercherò di andarmene via! E' qua dentro! E' qua dentro! E' qua dentro! E' qua dentro! No, ci hanno busciato! Ci hanno busciato! Cazzo si! Si! Mi deve fare! Dopo il tetto è statissimo! Terra! Ti rattopperemo in un attimo! Dove sta un altro? Sparano addosso! Sopra il tetto! No, no, no! Sta qua sotto! Seppo Seppo Madonna Circondante Non era mai successo Sopra, di lato sopra, dappertutto Lì Questo è il Gulag Sopravvivi e tornerai in campo Via alla battaglia Preparati Entra in scena Che palle Sopravvivi e tornerai Prima linea Perdi e sarai fuori dai giochi Risondi con le maniere Porti o cattura l'obiettivo Ma io posso cercare di prendermi le armi dietro E' una cagata C'è già gente Passi in arrivo C'è una nuova zona sicura Stendiamo del contatto saccando Non importa Siete sicuri di là che non posso andare? No 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 Poi siete di là C'è una C'è le armi questo? No, non ha niente Eh sì Da sa già chi sto salendo Non posso Non lo vedo E' pure qua sopra da me Eh Pure qua sopra da me Sì Come farò? A terra? Sì Buona Arto Anda verso destra Qua Metta percata C'è una che mi scava da sopra Non li vedo Mi sparano addosso Mi sparano addosso E' sopra sopra Ma noi non vediamo bene questo cazzo di zettino Eh ma non vedo dove sta Questo No Oh non lo vedo Da me da me Da me da me Oh non lo vedo Da me No 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 Ma ci sarebbe l'altro Che palle Siete morti tutti Dovete andare Ah no Dove andare ancora Mamma mia Mamma mia Che game Io non Siccome Dobbiamo startare dall'altra parte Perché è una posizione Di protaggio Cioè Se non c'è nessuno Ok Qui è già Un team solo No No ma lì Troppo lo sapevo che c'era Il lot di tanto spona comunque sopra Se non scendevamo Ucch eravamo già sopra Per andavamo il loadout Dovevamo subito prendere la collina Invece stiamo messi lì a faitare a fare Io scopo viandare lì e poi viandare subito prendere l'altese C'è già un team da sopra C'è un team da sopra Mi sape C'è un team da sopra C'è un team C'è un team C'è un team C'è un team Ehh vabbè Dai Eh ma mi sa di parte Eh ciao C'è ancora il gula Io non l'avrei preso il culo, è la tua sanità mentale. No, veramente. Eh, mi dovrebbe essere un po' perrare. Non ti spavio il tuo braccio. No, non posso andare. Eh, niente. Poi è sparita una taika. Aspetta la terza volta, raga. Non, 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 non. Non, 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 non. Non mi trovavo il parico. Quello che piocava? Sì to già vusì ecco lì vabbè e qua l'abbè no 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 vediamoci qui vediamoci qui praticamente praticamente hai fatto 7 kg nel gulag continuando a prendere a prendere la moneta non stai più forte dietro dietro ho visto ho visto eh sono morto vabbè arrivano dentro un altro un altro uno 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 vabbè di qua, sprundi là, e non ha un minchia Ma quel punto lì è bastardo, perché ci sono sopra quelli del lago, del loghetto Ma adesso hanno cambiato un po' gli spawn dei load, infatti fanno più cagare adesso, però il fatto è che noi siamo andati troppo sotto di solito se rimaniamo subito sopra abbiamo l'armi subito lì e poi dobbiamo subito o salire oppure andarcene proprio via, invece siamo rimasti lì sotto a fightare con alcuni poi dopo siamo rimasti lì alla fine poi a furia di sparare quelli sopra, basta che si tuffano, ti vengano addosso e devi andartene via prendi le armi e te ne vai via il problema è che appunto se hai un continuo fight che non fai in tempo ad andartene via è per quello che o andavamo subito su mentre si fightavano potevamo salire su e fightarli però nel momento che giochi passivo purtroppo la partita la devi giocare da passivo e Suki una forza usate questo tempo per allenarvi poi si farà sul serio è assurdo perché magari c'è adesso così abbiamo succato però io di solito lì comunque riusciamo quasi sempre a vincere diciamo l'ago e cominciare a fightare bene e iniziare subito il game bene poche volte che succede così e per lì quando succede così però ovviamente se la mia macchina schiacciava qualcuno tutto pronto la zona di guerra vi aspetta e io andrei di nuovo lì boh se vuoi provare a pingare un'altra roba non so se v'è abituato a andare lì o se mi io sta safe qua o guardo a power plant a farmi dettagli o guardo a capital oppure qua io capital la odio per dire ma per caso qua è buona qua è buona cioè il pallone pallone e cucci il gas si sta avvicinando meglio se inizia piatto proviamo non mi fai cosa smare però con la zona lì sei basso diciamo è per quello che a me piace andare la zona qua perché mi piace proprio fightare lì open sopra con gli sniper ovviamente se mi fate andare capital io con gli sniper non faccio un cazzo vai proviamo proviamo io l'ho visto in diretta per me sta venendo in team io l'ho visto lui che diceva guarda 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 sta arrivando un nemico e i nemici all'attacco si c'è qualcuno sopra di me oh cazzo no mi ha malazzerato non sapevo c'è uno qua non mi ha finito non ti lascio morire è bravo non ti lascio morire non ti lascio morire arrivo Siamo tutti nella zona sicura Se riprendiamo il palloncino ci possiamo andare frate Oh gente è qua sotto da me Per dito quello lì sotto One shot one shot La taglia è facile da fare qua Metta marcata Vedi vesti pigliarti sto corpo qui che ho tagliato Stavo già andando Eh ragazzi non so 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 Anche me Anche me Ho fatto un pallone Ho preso il pallone Ho fatto la direzione Beh la fa apposta La fa apposta Somma lo riuscirò a finire a direvo io Eccolo Però io non c'ho le armi raga Riesci a pingarmeli che non li vedo Eh sono entrati dentro al posto Ma è uno Sono entrati dentro al buco Sì io devo dare anche le armi raga Pure qua c'è sta gente Questo bersaglio è ostile Contrattore nemico individuato nella vostra area Contratto scaduto Obiettivo mancato Trazza da prendere Ah Eh niente Andiamo a farci un altro contratto Stai andando a bruciarmi no? Continuo Adesso vado a fare un Ho localizzato un contratto taglio C'è roba da prendere Ma quello lì è? Quelli lì Non importa Io sento Comunque sparare ancora Questo Vediamoci qui Sento sopra di me sparare Questa è sparato in volo Possiamo salirgli volendo eh Ho fatto un god di questo Ce la vede un caricatore AR? Io sì ce l'ho full Grazie Grazie Perché come siete vicini a me E non ho 210 Non riesco a salire Fatti Sì Sì Io sono salito in mezzo Un capriolo Penso lì dovevamo fatto sto shop Conditore marcato Non c'era Non c'era La zona per salire Qua Non te la taglia Fatto 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 Saliamo sopra qua È vero È sparita la taglia sotto Ma sopra o sotto? Oh ma l'ha tirato Allora uno sopra Sono due sopra Uno l'ha tirato Mi sta venendo a Conformare Lo riesci a Anche solo a sparare Che mi resto Un tuo alleato aperto Dovrà battersi Per tornare in campo Eh vabbè Un piacere Un piacere Un piacere Il piacere la squadra ha cominciato a raccorrermi addosso no perchè altro io sono salito perchè ho capito il call oh manate un affanculo infatti c'era uno sotto che ti ha sparato si si no ma dico sono salito per quello sennò magari andavo dritto e boh mi fa comodo di girare da dietro poi che non era sbagliato neanche stagli davanti però uno l'ha atterrato l'altro l'ho distrutto ucciso anche l'altro cazzo vincevano la magia vincevamo il fire vincevano ma era sul primo ma io non riuscivo a trovare armere cioè voler metti 40 per terra era sul primo si ragazzo cittaria ho! vai! facciamo un cittario cassa di scorte in piano prelevare Grazie a tutti. bravo bravo no sono 3 no sono sulle tue spalle tre botte mamma mia che stile eh sono bravo che schifo un camperatizio in quella casa oh no no troppo è riuscito a casa staccia lascia comunque è quel lì oh voli eh possiamo già lessare ma lasciaci i soldi almeno poi abbiamo più soldi che abbiamo più soldi eh contratto riuscito casse di scorte trovate come va come va come va mi sembra di avere qua avevo aperto una casa con una marco d'oro sta andando a vedere va che volete riusciamo eh arriva il gas marco la nuova zona sicura eh sono lì che sparano dov'è vero che ne atterrassi uno con lo sniper c'è un modo per salire senza far casino lancio una granata scusa scusa guante 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 no c'è la data mina la c'è la c'è la c'è la città ma io mi sono con la mina in faccia le spalle ti tiro il load di fuori non so io non ho capito dove ti sparano non avranno mano come li vedo ma si mi chiano riesco a vederli non riesco a vederli non riesco a ingaggiarli non capisco dove sono e che solo capirla a casa terra 1 è riuscito a sparargli in prefire non ho lettato da per terra si sta restando no dai l'ho atterrato l'ho intratto due volte due a terra rega due a terra comunque uno a terra l'ho intratto due volte a terra dai su due volte a terra è un po' forse ho intratto un altro erano tutti attaccati questi ci avevano il load out non ho capito erano dentro a sto coso con il load out in mano ora non sapeva dire che fosse un load out è imbarazzante andiamo a fare un walk via si mi lascia stare il cazzo non c'è niente ma c'è comunque una di quelle cazze sociali dimenticate quello che ho detto ricognizione urgente ho vinto il volo pinga 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 il vittore è marcato hanno vessato eh vedo uno non posso farla sto dietro sono di nuovo qua sopra e ha power plant le sparano in parte quelli là sopra le vedo infatico metta marcata ho il pallone vanno verso destra vai vai buttalo buttalo vanno verso destra hanno arrestato anche loro mi sa hanno arrestato hanno arrestato e io dai vago ormai io sono andato lì dove vedo uno qua c'è terra qua scattato il pallone Eh, qui siamo, qui siamo da destra, dopo lì per lì Comunque, occhio power Ho preso il pallone dietro power Ah, sì in arrivo! Ah, vai, crossate che io vi guardo con lo sniper Vabbè, sono abbastanza libero Ah, guardalo, guardalo! Stacco il tiratore È stato bianco Cominciamo a salire un po' Eh, io volevo salire di qua e darli Hanno, tipo, restato Immagressivissimo, eh, ma quando te lo puoi per vedere Hanno restato, eh Non li vedo Ho visto un colpo di slime Ah, guarda, sta salendo, sta salendo qua uno, uno E ci sono anche gli altri, eh Ok, 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 teniamoli, teniamoli, andiamoli Non vediamo Con la cittura Mi mi perde Sì, non mi competitors c'è uno close, c'è uno close cazzo non fatemi fermare vinci questo scontro e tornerai al fronte perdi e te ne tornerai risolvi con le maniere forti wow c'è una roba in safe, io non mi ricordo dove sono morto c'è dietro un albero avete delle armi per me da qualche parte? di gente morta ma ce l'avete qua tipo uno? è close, è close non c'è bella stammar down, l'ho visto armi qua eh è anche più sopra mi voglio aiutarlo lasciate no, niente stai sopra, stai sopra che mi ero roba ok, ho 6 piastre, dove siete? e restano solo 25 sì, magari un paio di piazze anche solo se per caso ah, per me torno di vita vediamo questa montagnetta davanti eh sì, stiamo attenti che di nuovo potrebbe esserci lì però prendiamo è molto buono perché rattaccio con me stai davanti a me? a terra no, altri sono dietro la collina potete restarmi andrà tutto bene adesso ci chiamiamo di prendere queste cose è un gioccolazzo raga ok, le visti? mi sto diffigendo ci stanno pushando? no, no, no occhio, non ci voglio andare a vivere no, no, no c'è stata tirambola uno sta fuggendo mi li lascio morire granata lanciata mi sparano addosso non apri piastre anche io piastre cazza, cazza dietro stanno pushando eh? ok, non ci hanno più visto forse pensano io sto guardando a sinistra un altro team un altro team un altro team uno vimperà uno a terra minaccia rimossa occhio a sinistra a sinistra bello un altro team abbiamo anche lo shot è dove? è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo mi lasci i soldi se dovete prendere qualcosa non so dove è tanto ci sta un cerchino eh è un ragazzo ancora è un ragazzo da prendere raga uno close è one shot mi ha ucciso non devi mollare non tre team eh, dobbiamo spostarci noi però passi in arrivo hanno restato sotto quindi un team è sotto un team è sotto un team è sotto qua 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 è la giù in fondo è lontanissimo eh, secondo me invece devono già prendere posizione qua eh, ci sono quelli sotto che stanno per salire poi ci troviamo una situazione e lo sniper è tanto lontano manca solo un team da spottare è dietro quella collina lì dove hai detto? eh, sì, sì, però adesso non non... io andrei andiamo andiamo e spara il ciocchino da sopra? sì, continua a essere lì continua vengato e gli altri gli altri stanno fightando sotto vediamoci qui no, raga raga tre cecchini tre cecchini per sopra ma devono scendere? non me li pinga sì 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 ma ancora no però sono... dove sto guardando? ok, il team sotto uno è morto eh c'è un team sul ping blu e quelli lì al ping verde boss i sniper adesso provo a prendervi li mi hanno rotti i coglioni ok, uno è hitatissimo uno è terra sono qua davanti a me eh potrebbe essere da pushare uno è più semplice sì sì, sono lì è cattato uno è fiasciato ok, ci sono quei due sotto eh il team sotto eh ma con la casa lì blu devono salire eh uno sta già salendo? ok, si è messi meglio si è messi meglio eh uno è craccatissimo quello lì a terra quello lì c'era un altro un cazzo bu buuuu beh a me è piaciuto il mio parere è perché abbiamo preso posizione cioè siamo venuti in sta zona qua è ottima in realtà abbiamo su casa però all'inizio eh ci siamo arrivati dopo lì eh se ci pensi siamo andati giù abbiamo fightato un'ora e mezza dalle case non lo so no, però è vero che abbiamo abbiamo pushato bene eh tutti i team praticamente li abbiamo pushati tutti gg gg 17 buon grazie per il 50 stelle riccardo grande cazzo e lì ci è andata bene cioè tutti i push ci sono andati bene quando ci hanno pushato la sopra la cosa ci è andata anche abbastanza bene ci è andata anche abbastanza bene e mi insulta bene e partita è recuperata due volte ah sì mi ha recuperato due volte nice nice bravissimi gg io diciamo che per ogni tipo di safe ho un punto d'atterraggio comunque sia se non perdavamo all'inizio quel fight la zona era sempre questa nostra sì sì quello sì però capisci che tipo ci siamo buttati siamo già morti uno era già morto poi l'abbiamo recuperata e poi abbiamo siamo saliti su e siamo morti poi l'abbiamo recuperata cioè il senso quello ma io non lo vedo nel party e cosa ci ha fatto perdere tempo quella cazzo in Italia che si è presa il pallone e abbiamo perso posizione lì sì sì dico io più o meno non vado lì ma molte volte vado giù nelle altre case comunque a me piace sì poi dopo prendi altezza riprendi l'altezza che mi piace a me ma dopo è più o meno la stessa cosa anche io più o meno cerco di in base alla safe ho quei due o tre posti cioè tranne quando si si chiude sopra quando si chiude sopra io la odio proprio non c'è niente che mi piace sopra dox mi fa schifo però vado dox alla fine perché è vero quando la safe in alto io vado dox dox perché è l'unico punto cioè non lo so è l'unico punto che puoi far qualcosa però però non mi piace comunque cioè proprio mi fa schifo quel punto lì perché ci sono tanti che si nascondono dentro sopra alle cazzo di di torri con le cose lì quando chiude a nord quasi quasi qui ti si quando c'è la safe verso nord qui te rei porca troia veramente si comunque questo gioco qua nel momento che sei abituato a buttarti in determinate zone conosci più o meno le le zone di 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 movimento così così alla fine non ti dico che una cosa vale l'altra più o meno se poi la l'identità di gioco è la tua nel senso per me per dire prendere altezza posizionarsi sempre nella posizione migliore più o meno abbiamo fatto sempre poi abbiamo fightato abbiamo fatto però più o meno quello mi piace nel senso è quello che basta che ci sia un senso logico capito per te sei andato qua no io di solito molte volte invece vado qua per dire un po' più a sinistra però se poi la cosa è prendere il pallone riprendere altezza e noi facciamo questo movimento qua e poi comunque facciamo il pallone quello sì però a me queste case qua per dire non mi piacciono proprio ti becchi un team che campera se stai entrando in una casa ti becchi un team da tre non lo so invece questo qua per dire col fatto che prendi questa casa alta hai più controllo sulle altre cioè nel momento che prendi la casa più alta hai controllo sulle altre io cerco sempre una cosa del genere nel senso avere il controllo sulle altre qui sotto invece mi sembra di non avere il controllo perché poi il pallone è open se già è un team che ti spara da qua non lo puoi più prendere e ti zona già un team qua sopra già ti zona perché non puoi prendere il pallone invece magari qua inizi pian piano vedi un po' e vabbè ovviamente sono tutti modi di giocare e poi io qua a me piace andare qua poi non so voi perché almeno prendo qua prendo l'oddy e poi c'ho tutta l'altezza di storage io invece qua vado a village per me village è proprio una roba che non mi piace sai perché? sai perché tutte casine tutte vedi abbiamo allora proprio un modo di a me tutte queste casine vicino se io se io sento fightare in queste zone qua piglio il pallone e li pusho dalla collina eh ma io sono già sulla collina però in teoria se ho preso l'oddy anche te devi prendere l'oddy io l'oddy praticamente la maggior parte delle volte ce l'ho già sopra la collina e alla fine sono già lì te devi prenderlo e prenderti dopo il pallone mi arrivi in faccia e comunque c'è gente qua c'è dove non c'è c'è dove non c'è sono entrati in tre eh? uno fuori fuori non fatemi confermare non fatemi confermare comunque porco zio cinquecento danni zero kill questo dio adesso sei nel gulo sopravvivi per rischiararti matalo bravo oh via alla battaglia con un'arma da tocca a te da vinci qui e tornerai sul campo di battaglia se perdi non potrai farlo dai e fatti sei al capolinea torna eh luttiamo verso lo shock non è ancora finita ti puoi pagare per farti uscire io ero al telefono dio buono te li abbiamo te li abbiamo comunque lì non so cosa è successo cioè uno mi sparava a me l'altro l'ho distrutto io non so appena è arrivato un terzo sempre da me dio buono cinquecento danni zero kill ah uno kill c'è qualcuno qua perchè hanno fatto la la missione quella dell'esplosione della del camion l'ho proprio prende subito il load c'è una nitradietta da prendere vediamoci dietro il baggiamento alleato arriva dietro c'è gente qua c'è gente lì arriva un pallone arriva qui un pallone c'è un pallone stai giocando col fuoco stai giocando col fuoco è vero lancia una granata lancia una granata ecco fatto siamo tutti nella zona sicura per lì vabbè se c'è no in a c ne lasci due corazze beh uno ma lo senti ci sta chiedendo le corazze ah si no non lo sento ah non vi sentite grazie adesso si grazie uno ha crossato ci abbiamo arresto secondo me non vi sentite perché vi parlate ma non vi sentite lui non ti sente più quando mi ha detto grazie l'ho sentito e poi è sparito adesso si si bruttissimo vabbè andiamo un po' qui c'è gente che spara io non so se stanno sparando un altro guardate in buona zona è uno vieni non l'abbiamo usati c'è solo una planta c'è stata scoperta una bomba di retta 5 attenti ciao io ho anche le parattere guarda ma c'è un team là ma dobbiamo aprire l'altezza guarda guarda ho presentato lui no hai fatto bene hanno arrestato davanti a me mi stanno facendo la roba da presto è arrivato uno è per la vita ha arrestato attenderemo anche hanno arrestato vabbè dai io me ne sto per quittare sto continuando a crackare mi sto ne rosendo oddio buono da dietro ragazzi la collina dove guardo io quale è la collina che guardi te non ho capito è qua sopra lì ti vede ma non ho capito dove da qua tipo metà marcata non c'è soldi ho visto del denaro lascio due have ex qui sopra infatti ce ne ho uno questo però mi pagnavano me ne pingo uno hai rientrato dentro è un flyer un po' veloce questo si comunque mi ha sparato da qua mi ha laserato mentre mi pinga un altro qua ma può essere cambeccato a villager infatti alla mia altezza ce n'è uno meta marcata non importa gas in arrivo c'è una nuova zona questo gas guarda non è che si può togliere dalle palle da dietro mi ha sparato uno da dietro quando eravamo noi mi ha sparato attenti c'è una cassa di scorte andate a prenderla lancio una granata c'erano altri qua in zona c'erano altri qua in zona c'erano altri qua in zona c'erano uno qua tipo qua meta marcata io ne ho visto uno vicino al pallone prima mentre venivamo gas via quasi addosso vediamoci qui c'erano una nitreglie accettata in zona ecco che si possiamo anche beccare il fumo verde era il camion tipo ma è sparito da un po' è in fondo? vediamoci qui non ho capito noi siamo sopra comunque che può stare? c'è uno da io qua non lo sento io non lo sento io ce l'hai sopra raga è qua da me sono morto mi tira roba raga è qua davanti a me davanti a me bravi ma era solo lui? esatto che ho visto io si come avete preso la taglia mi giro questo qua a piccato mentre salivo da voi madonna ti ho preso proprio l'ho missato per un primo colpo l'ho missato cazzo c'è uno shop rendiamo giù un secondo venditore marcato un botto di oro non è mai era un babbo che non ha coglurato sono flyer troppo l'ho preso il pallone si ho preso il pallone ragazzi ho preso il pallone a pusharci io l'ho visto davanti a me uno sono qua davanti uno perdito come fa a correre tranquillamente non so chi l'ho schermato che camper di merda ci ha detto che camper di merda ci ha detto ma porca di si abbiamo pushati la gente sta male abbiamo pushati come facciamo a cerca si me l'hai proprio sfilata di brutto con colpi PSA che nip fai mi vino da porca mi è arrivato colpo di sniper ma non ho capito da dove mi sparao tiro l'uad che gli hanno guarda là giù in fondo a me non mi carica nemmeno io continuo a vedere solo un pixel e continuo a hittarli e io non li vedo proprio mi hanno aterrato tanto non pusheranno mai questa gente non ti lascio morire appena detto ci pusheranno in 2c andiamo andiamo qui alle corazze ragazzi ci fado una un altro giro che schifo lo gioco io non lo sento te lo senti e adesso si mi spanda dietro da village non da village dove abbiamo ucciso quelli quelli prima quali ero? uav alleato in volo datemi la caccia andiamo in safe andiamo in safe se riusciamo cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team nemico no li pingas un passo vediamoci qui in volo 1 vediamoci qui io ti ho fatto eh sto andando via mi mando a prendere il pallone regas vi è quasi addosso dove vogliamo andare rega andiamo a dirti per dirti infatti non è che abbiamo tanta scelta dobbiamo arrivare alla zona sicura subito c'è un posto in particolare non so qua meta marcata questo è una base questo è una base eh arrivo un camion arrivo un camion adesso qua sul pallone la posso prendere grazie scresa 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 arrivo ecco il bersaglio avversato avversato obiettivo sistemato splendido raga raga c'è un po' di gente c'è un po' di gente c'è un po' di gente che ci passa di qua larga l'avete visto? eh madonna ma erano così sotto che non li ho visti come cazzo è possibile che aprivo la mappa non li vedevo perché erano tutti sulla riga rossa tipo eh questi quasi non sono scemi perché quel cross lì è l'unico che riesce a fare da eh sì no anche io di solito faccio quel cross lì per andare di là però ormai sarà nuovo erano passati ormai sì quello sì poi c'erano due ancora due ancora qua erano vediamoci qui ho preso la macchina in realtà per cui si è entrato da oggi vengono a sento ha attivato molto oh arancione ah perché ha arrestato e la taglia e la taglia la taglia ha usciso la macchina fuori ho usciso la macchina la vua è bengato uno veramente l'ho messa al sicuro uno è già qua sopra ha fatto grigio uno sopra non ti scommo dietro si fa un uoviere raga ragazzo un fattore d'altro qua gas in avvicinamento nuova zona sicura ricognizione urgente abbiamo ancora quelli la dietro abbiamo ancora quelli la dietro e dobbiamo incrossare qualche mosca cosa facciamo la rischiamo e crossiamo oh stanno bene stanno bene possiamo usare l'aereo uno mi sa stagostato eh eccolo vedo craccato craccato io guarda io sto facendo una pazzia l'autonomia UAV esaurita rientro alla UAV nemico attivo abbiamo il ghost non lo ricordo non frego sono latti sono latti oh li vedo davanti a me UAV alleato in volo in gas che raggiunge questa c'era dai io ce l'ho qua uno a me mi hanno visto? eh vabbè dai no no questo qua ci sale non possiamo non possiamo non possiamo non possiamo non possiamo lancio un assordente granata lanciata che adessoора vaio c'è uno qua dentro tipo c'è uno qua dentro tipo ho stordito il mio c'è uno qua in meta qua temi un altro qui sopra eh eh c'è più un altro qui sopra Mi distrugge, no, su la torre, su la torre, è sopra. Aspettato, grigio. Sto a dove, da me? No, dai, ma cosa ti guardi qua? Ma perché ti guardi qua? Eh, vabbè, ma cosa si guarda la porta lì? Dobbiamo andare prima nella casa invece di fightare nelle tende. Cosa è un razzio? Acquita questa è un razzio? No, non mi ha detto che. È un razzio. 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 No, è safe di merda. Possiamo restarlo, c'è uno che va loadout. La gente alle tende, dovremmo noi. Una terra alla shop. Lascia i soldi, dì, lascia i soldi se mi sente. Ci stanno... Non c'ho armi io, eh. Vedi qua restiamo, eh. Lascia i soldi. Tieniti. Oh, guarda sta merda. No, un altro team, c'è, Cristo. Mi è morto. Eh, vabbò. Grazie, vado a dormire. Mortissimo. Mi è starto un'altra, ci siete? Sì, sì, sì. Arriva, intanto mi muto ma arrivo. Ok. Gioca, tersetti. Arriva. Che mi senti? Rufka. Vai, vai, ce ne facciamo un'altra, eh. L'ultima e poi sta qui. Mi senti te? Adesso sì. Ok, non ti sentivo. Grazie, volevo restarlo lì... Come cazzo si dice? C'era lo shop proprio davanti alla pista degli aerei. Eh, lo so, ma non... Cioè, c'era quello che mi sparava, se è uscito fuori. Siamo passati sotto. Siamo passati sotto. Grazie. 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 Ci siamo, siamo caldi? Andiamo a vincerla? Yeah. No, ho visto prima che si era bugata la lobby Sai, non mi era partita Ah Boh, fincate voi Andiamo Boh, fincate voi No, vai vai, intanto almeno Vedo anche altre rotation Ogni volta mi butto sempre nelle stesse zone Io andrei qua Pallone, taglia Senza lo doubt La ultima 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 che roba strana sono più gettonato a guidare ma che cazzo vuol dire ho localizzato un contratto taglia andate pure al pallone ecco il nostro passaggio ecco il bersaglio oh uno qua da me buona il posto di guida è mio massima attenzione un team nemico ti sta dando la caccia ma che cazzo stanno andando anche l'uncato a me uno mi ha sparato comunque andiamo a siccità la taglia sono la più gettonata a me è quella zona che mi sembra rinzioso 91 e mi guarda ci manda l'altra non avevo un altro voglio non ho tirato oddio voglio voglio tu avvi alleato il volo dategli la caccia pieno 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 vediamoci qui uno qua e il tre che sta salendo sono anche di gente che c'è la red ma il cazzo dito ma la gente è che il procuratore non riesco a prendermi non lo vedo più entrato nel buco si avvicina dai l'ho hitata anche da terra questo non lo vedo più entrato nel buco non lo vedo più entrato nel buco una ricognizione sull'area Tempo scaduto! Addio contratto! Arrivamoli in volo Attacco il tiratore Si raggiunge UAV nemico attivo UAV alleato in volo Dategli la Nemico in arrivo nell'area C'è un altro flyer qua A terra uno Mezzo alle tende invece ne uno Un flyer Un flyer mezzo alle tende Raga ce ne uno in mezzo alla pista Mi sembra alto no? No attacco il tiratore Eh pirra il camion Un altro sulle tende Sono un fai sulle tere Una a terra Cazzo Sono in tre? Non si ripeterà Non si ripeterà Non si ripeterà Non si ripeterà Mi attaccano! Non si ripeterà 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 probabilmente ho interrotto la animazione di callpalla Da come un paio del calco Stava dietro e da prenderlo c'è lì il palazzo da prendere se la taglia il palloncino volete andare avventi lì? io non ci andrei, però lui sa dire ne vedo uno deve sparare pure un pochino un pochino qua un pochino a sparare uno a terra due a terra si è ucciso anche lo sniper sparo da dietro oh dia si sta dilaniando adesso non riusciva più a crossare lo sapete andiamo indietro mi spara col ciochino riparacapiamo il... ecco il nostro passaggio trovo torta ne abbiamo uno qua meta marcata voglio prendere un bombardo mi dai i soldi voglio prendere un bombardo gas in avvicinamento nuova zona sicura noi pingavano qua dentro mi ha visto mi ha visto meta marcata one shot oddio ecco il bersaglio va abbattuto per io UAV alleato in volo dategli la calza metta marcata oh si adesso vado 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 dove stai? vado 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 4 ce ne andiamo non so capace a usare questa è la via aspettata facciamo ti insicuro eccolo uno eccolo lo shop lì c'è uno Marco la posizione Allora fa niente Almeno ping qua c'è un Bersaglio in vista Sono sotto a tiro Oh un altro un altro un altro sotto Riuscite a dare un colpo? Eh erano due team non ho capito Si stavano sparando Non è uno qua Siete un vetro o siete? Siete un vetro Siete un vetro E' un vetro E' un vetro E' un vetro E' una terra E' un vetro E' una terra Ma ti sta ancora sparando uno? Non ho capito! Sì, si ha fatto uno! Andiamo all'altezza, rega! Faccio UAB, faccio UAB! Va due per io! Va bene, sono due! Vai all'altezza, vai all'altezza! Tu avrai alleato il volo! Dategli la caccia! Guarda, la casa di prima! C'è gente, in tre! Anche alla macchina! Aspetta che li vengono col cane! Chiara, uno! Straccato, un altro! Chiara, di nuovo un altro! E' sotto nell'angolo a destra della casa! No! Vada, vada! Ah, sei in movimento! Vediamoci qui! Tu avrai alleato il volo! Dategli la caccia! Niente sopra! Niente sopra! Due team! Un po' davanti! Provo a fightrarle! Sì! 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 Con la sinistra! Senti! Scatato uno! Scatato l'altro! Scatato uno! Scatato uno! Non ce l'ho! Niente arrivo! Stavo lì davanti! Stavo lì davanti! Stavo... Guarda che vedo uno! Se l'ho atterrato, vedo! Tacato! Alla casa! mi stanno dando un altro da me vabbè dai devo farvi un UAV adesso ma infatti non so perchè siamo troppo in là sono troppo sputtati bene sono andato in ruota qui l'ho 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 un'area evacuata a fine arrivo c'è una nuova zona sicura ora non vado avanti 25 avanti così sulla destra si spera teniamo all'altezza ragazzi adesso eppure veniamo all'altezza teniamoci all'altezza copriamoci vari cross non andiamo solo per le kill per ogni volta qua mi scopo eppure ma questo è un blocco di loro è dietro lì ah ce l'ha fatto guardalo hanno restato qua dove eravamo prima hanno restato qua ci arrivano adesso dobbiamo guardarci tu apri alleato in volo dategli la cazza guarda io rimango un secondo indietro così non faccio salire gli altri eh poi attacco a grappolo alleato attacco a grappolo alleato attacco a grappolo alleato che pado devete suonarli eh non uscite lì proprio eh quando devo uscire da la qui sarebbero anche colpi sniper appena ritornato eccolo stannoci fuori dietro è sceso mi sa non scendete venite da me allora non scendete per favore andiamo all'altezza sta qua sotto ok uno sta prontando a salire lo ho fatto scendere mi stavano un po' di colpi sniper facciamo l'elicottero sapranno salire l'elicottero sapranno salire bombardamento di precisione alle altre tasse in avvicinamento nuova zona sicura sono proprio nelle tendine qui sotto non li vedo mi spara il cerchino lo so da dove è più a sinistra dovremmo averci uno qua mi seguo no raga mi hanno cattuto non so dove lo sniper copre 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 sta arrivando lì eh no gente da sotto da sotto sto curando io non ho capito è morto sono due team eh quattro persone e due team tre uno due due tre uno due due che cazzo cecchino non ho capito dove sono non capire neanche dove sono è difficile però no non ti inserà sicuramente lo shop non ho capito stende a destra a destra con le vasette stende ma sta sparando eh si 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 forza uno è morto cioè devono venire di là parco la nuova zona sicura un due e uno non so se no pusciamo e liberiamo saldo nostro ah sei in movimento gli altri saranno già giù guardate che non salgano eh piuttosto ci mettiamo qua vediamoci qui tendi ai rati qua dentro ecclo no si ok uno è uno eh uno deve salire da sotto e l'altro sarà da destra da quella casa la oppure sta qua dentro a camberò ok è arrestato lo shop è stato mi hanno colpita gli da zero l'amico in volo parello attendi all'altro atto ci sta un altro a destra a destra è destra è dietro questa fase No, c'è un altro, c'è un altro Come un altro? È quello sotto, no? Puglio ho visto uno pelato Rimane quello che ha restato giù, cazzo No, no, siamo tre team, guarda Sì, sì, sotto, sotto, sotto Siamo due team e tre persone Ma rimane l'ultimo giù Lui tanto non sale, rimane lì Adesso scendo giù adesso Per fare solo vedere che restiamo Ah no Non andare troppo lì vicino Buon, 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 perfetto Come proveranno a vivere sulla sinistra? Odia, sta spaccando Dobbiamo arrivare alla zona sicura subito Un luogo pronto È di troppo lì Di tornata Bella, bella, cazzo Gigi ragazzi Non è gay Ah Riccardo Non è sempre cinquanta steve ragazzi Gigi ragazzi Next Gigi ragazzi Stasera non dormiamo Io più o meno tutte le serie Fino alle tre ci va No adesso oggi mi sa Questa è l'ultima Lo stanco Vediamo bene Sono a 6 win Attenzione Però vabbè Far tutto schifo forse non conta No quello non contano Non contano Neanche il ratio Le win su Fortus Te le mette sull'alltime Si mi sembra di sì Si mi sembra di sì Lo mette su un ritorno Si non te lo mette su Sul causal time Ritorno a 489 Ah è proprio diverso Ah è proprio diverso Allora si 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 è andata Sì si è andata bene Riccardo Debo dire di sì Debo dire di sì Debo dire di sì Sì comunque quando C'è un team anche un pochettino diverso Puoi usare anche di più Diciamo In determinate situazioni Puoi pushare di più Puoi usare di più Tipo adesso io posso Sono riuscito anche a lasciare I tranquilli loro Che sono pushati Quel team laggiù Io mi tenevo all'altezza Per Non ho fatto salire Quel tipo là Comunque Ti puoi splittare Puoi fare anche altre cose Che di solito Non facciamo 45 Ah Eh sì È vero Perché io ho 17 16 Deve error Deve error Ah ok aspetta Esco Ma proprio il gioco Quindi ti ha crashato Mi ha buttato fuori Ancora nel caricato Ah perché c'è un aggiornamento Raga C'è un aggiornamento Sì Beh allora Mi sa che devo Devo quittare Perché Sennò abbiamo una versione diversa Sì Sono a 300 mega Niente Allora quitto anch'io Faccio sto aggiornamento Faccio sto aggiornamento Vediamo un secondo Se non lo faccio A dopo dopo Avete ammazzato Un terzo E' la lobby Eh sì 45 Non contando Diciamo i ritorni Delle persone Eh no È bello così Hai diciamo Altre possibilità Puoi essere Un po' più aggressivo Nei push È normale Non è per cattiveria Però è ovvio Che se giochi Con della gente Comunque Magari È abituata a meno A far così Devi giocare proprio diversa Poi giocare aggressivo Nel momento che Che sei aggressivo Riesci a Comunque A tirar fuori Via dei team E poi dopo Stai sempre un po' A pensare Il positioning Però poi Quando incominci A essere a mid game Incominci a pensare Un minimo A una rotazione Per la safe Giusta Comunque a me Non me lo dà L'aggiornamento Ma Eh 300 meg Ma Esco proprio Dall'alternet Come ho fatto Giota Adesso Uscendo Forse me lo sta facendo Sì Me lo sta facendo Mi sa che è cresciata Per quello Ma se mi sa di sé Spero che questo Warzone 2 E i bassi Tutto l'audio Sei migliore Eh dicono che L'audio Sia OP In quel gioco Lì Tipo Quello lì Che ha Atterrato a me Ha killato 2 alla fine Eh A me sembrava Molto più sotto Dagli spari E c'era proprio dietro Ma poi ci sono Delle volte Che proprio Non li senti proprio Proprio non E' pazzesca sta cosa C'è delle volte Che riguardi anche Il VOD E cose Non senti un cazzo E poi in realtà Lui ti correva proprio Come Un pazzo Vicino C'è gente che Sta facendo Lo slide cancer In Warzone 2 E mi ha detto Che non spari Però durante Lo slide cancer Sei fermo Tipo Sì Sì Siamo rientrando Ne facciamo un'altra Se Stiamo arrivando Perché non mi faceva L'aggiornamento Ma poi chiudendo Battle Niente riaprendo Me l'ha Me l'ha fatto Sì 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 Grazie. 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 No, no, anche Steam. Come mai ti piaci più? Sì, come applicazione sì. È più roba. E' pena per certe persone, è pena, ci fanno pena. Tra l'altro c'è la cosa più stupida che ci hanno bloccato su questo profilo e non sull'altro che lo hanno preso anche là fuori. Quindi questo è il nostro vero profilo della nostra attività. Già le balle Riccardo che ve le sono in ferie proprio nel momento in cui esce Warzone. Io potrò giocarci subito. Poi torno praticamente negli ultimi 5-4 giorni e poi c'è la Milano Games Week. Arriverò un po' impreparato a questo Warzone 2. Sono arrivati qua sul tetto i due ballerini. E li ho fatti con l'UGM in close. Oh, cazzo. No, comunque col fatto che siete molto pusciosi, mica, con me e con lo sniper, per me è una goduria. Perché molte volte iniziamo il fight e ne aterro uno. Comunque siamo due contro tre. Devo poi avvicinare in realtà, perché se non mi avvicino poi siamo... La superiorità che ho creato magari non la... non la sfruttiamo. Però bene... È divertente perché devo sempre stare un po' più attento al fatto di... Ok, killo, poi devo subito venire ad aiutarvi. Creare la superiorità. Nice, 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 nice. Ah, male, ma sono a Tenerife, non riesco a nerdare. Ho una bella settimana a grattarmi le palle. Quest'estate con una settimana di ferie mentre avevo il Covid, cazzo. Io non vedo niente, ragazzi, c'è tutto nero, quindi magari pingate voi. Safe a nord, verso Arsenal. Ah, quello che mi piace a me? Cos'è questo pico? Proviamo, proviamo, allora oggi... Voglio capire anche gli altri dove si tuffano, guarda. Non vedete il cielo. Nel pieno, nel pieno. Come se... Che arrivano nella casa subito a perire, se non sbaglio. No, da noi. Nemico in arrivo nel lato. La priorità è uccidere tutti i nemici. All'attacco! E dietro, dietro, c'è l'hai! L'attacco! No! Oh! Nell'altra casa. Lo so. No, io ti c'ero qui ce lo faccio. Queiuc' di quello che è male. Sì. Lo so qua. Ah è meglio! Senti giù sotto ti magari arriva uno fuori Ormai ne manca uno C'è una mitra a 10 da prendere Lasciare una ruota Corazza da prendere Qua sotto qua sotto ora è? Qua Andiamo qua sotto Ecco fatto Caccio di equipaggiamento alleato Passi in arrivo Dove l'armi è buona ma non è male lo start Aspetta 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 Molto forte Alla nuova zona sicura Cassa in arrivo Che cazzo Mai mi ruolo Caccio di equipaggiamento alleato Visto del denaro Noi ci diamo un fisto qua davanti Corazza da prendere Cazzo non le ho prendere corazze Cazzo non le ho prendere Noi ci diamo un fisto Cazzo di amare Cazzo di amare Cazzo di amare E la cazzo di amare Cazzo di amare E' un buon specialista trovato Dimenticate quello che ho detto Perché? Perché? Lo prendete? Sono caduto Ah, qua c'è la scala, che stupido Sono giù, però Un vabbè aveato in volo, dategli la caccia Bisogna andare ad Arsenal Ad Arsenal E' ce n'è uno qua da me, più o meno C'è il pallonceno là, va a venire qua Ah, è l'elicottero, cazzo Taglia l'elicottero, sicuro No, no No, no, sono qua, sono qua, che c'è un po' sano Questo bersaglio è ostile L'ho buttato un bravo Lancio una granata Non è venuto fuori, no? Obiettivo sistemato, splendido Ne ha prestato il mio ancora Ce n'è per tutte Ce n'è per tutte Ce n'è per tutte Perca Dio Ma infatti io pensavo uno fosse morto Serve una ricognizione sull'area Oh, c'ho due qua, cazzo UAPI insolvolo Sì, mi fanno a me Mi hanno colpita Mi han dilaniato, rega, mi han dilaniato Sto scurando Ho fatto Sto scelto, sto scelto Sto scelto Sto scelto No, raga, non è che stermi da dietro, raga Niente, stermi da dietro attacchiamo ora stasso in arrivo appaglio hai tutto sulle tue spalle completa visione S su te oh c'è un resta cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team nemico ecco la traccia ecco la traccia madonna mia che palle hanno vinto la battaglia ma questo qua sul tetto ma veramente non è atterrato nemmeno uno di questi tre che continuavano a correre nei davanti intanto rimango allibito comunque è tardissimo io ho quitto mi sono divertito ma devo quittarmi è tardissimo bella ragazzuoli grazie per i game chi gli ha dato la gli ha dato la taglia a quelli che mi hanno buttato a terra basta slider al culo va bella bella raga alla prossima ciao ragazzi ciao 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 notte 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 a ciao a a ci siamo divertiti alla fine è stata comunque ne abbiamo vinto parecchie questo qua ancora non mi ha fatto vedere alla fine abbiamo fatto 45 di team comunque ho finito con un bel 6,60 6,60 di KD alla fine su caldera ne abbiamo fatto 1, 2 3, 4 5, 6, 7 e abbiamo vinto 3 quindi dai direi una bella media poi mica oggi 12k game sono stati veramente veramente poderosi ragazzi no se sto combinando sono stati poderosi bene si ho fatto un casino l'ho fatto buon rega vi direi che vado a dormire buonanotte a tutti ragazzi ci vediamo domani mattina se ci siete buonanotte ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti